Il pomodoro San Marzano Il pomodoro San Marzano Fino ad ora probabilmente è stato messo l'accento sul discorso della tutela Ma oggi è il momento appunto di ingrenare la marcia sulla promozione del pomodoro San Marzano Noi pensiamo che il paese di San Marzano possa dare un grande risalto a questo prodotto E quindi siamo qui per iniziare questo evento Io vorrei dare subito la parola al dottor Cosimo Annunziata Che è il sindaco di questo paese e che ci viene a dare i suoi saluti Ecco, passo la parola Innanzitutto grazie e buongiorno a tutti voi A me stamane tocca l'onore ma soprattutto il piacere di avere tanti illustri ospiti Per un evento che San Marzano sul Salmo io dico sempre gli spetta di diritto E voglio dire la storia poi lo ha confermato negli anni E solo ultimamente ora parliamo di un aspetto che è andato un poco calando Nelle tradizioni proprio della nostra realtà Porto come dicevo i saluti dell'intera comunità A tutti gli illustri ospiti presenti stamattina Ringrazio il Presidente della Prologo e la Prologo tutta Per aver voluto, come dire, riportare alla ribalta La storia e le origini che hanno fatto San Marzano Parliamo stamattina di un argomento Che i nostri cittadini, i nostri non tanto antenati ma già genitori, nonni Avevano nella cultura l'oro personale come identità Quella della coltivazione di questo prodotto Che dalle nostre zone sta quasi scomparendo Ma sta scomparendo poi per una serie di motivi e di fattori Che gli ospiti rilusiranno Qualche breve cenno su quello che è stato poi l'introduzione Del pomodoro San Marzano e del perché si è affreggiato di questo nome Io ricordo che nel 1771 il vice re del Peru donò questo seme al Lenni Napoli E manco a farlo apposta fu piantato per la prima volta proprio nel nostro territorio Ed ecco perché si chiama Pomodoro San Marzano Da allora poi le evoluzioni e la storia ce ne sarebbe, voglio dire, tanto da dire Ma quello che alla fine poi ha sorpreso un poco tutti Ha sorpreso un poco tutti è stata quella benedetta decisione in campo del Paese Dove hanno stabilito che il pomodoro San Marzano Totto potesse essere coltivato dappertutto Io dico scippando quello che poi era la realtà dei territori Perché un punto fare il caffè a Napoli e un altro punto fare lo stesso caffè a Milano Il paese del 2016 ha segnato il più 40% Questo significa che c'è sempre più interesse sia appunto in Italia che all'estero Soprattutto all'estero e noi siamo qui per testimoniare questo E per farci portatore di questo appunto di questo annuncio e di questo auspicio Affinché anche nel futuro possiamo continuare in questo percorso della viscita Ecco, prima il Presidente ricordava il fatto che il pomodoro non è solo una varietà il pomodoro San Marzano Anche la denominazione della Dotto, se ci fate caso, è pomodoro San Marzano dell'acro sarnese Locerino Dell'acro sarnese Locerino Il pomodoro San Marzano Dotto è quello fatto qui Può essere coltivato ovunque nel mondo Ma non ha il sapore di quello che viene coltivato qui Perché come ricordava Tommaso, il caro amico Tommaso È frutto di un insieme di cose Varietà, territorio, caratteristiche del terreno E più tardi ce lo spiegheranno meglio quelli che interverganno successivamente Ecco, per cui il nostro nuovo slogan in questo momento è proprio questo Cioè, il sapore di una terra fertile Questo è il pomodoro San Marzano Ringraziando il Presidente, io continuerei coordinando e dando la parola al Dottor Pocato Martinangelo Che ci parlerà di nuovi sviluppi sulle filiere delle DOP e delle IGP Grazie Buongiorno Intanto dobbiamo fare gli auguri con un applauso al pomodoro San Marzano Tra tutto ciò che è stato raccontato da Fabio e dal Presidente Che vi grazie per l'invito e cercherò schematicamente per le mie funzioni Di dare qualche contributo abbiamo avuto anche una resistenza democratica in questi 20 anni Per difendere il prodotto da parte vostra, da parte delle istituzioni Per cui saluto il sindaco, da parte soprattutto degli operatori Saluto anche gli altri amministratori, i presidenti che si sono succeduti Ed è giusto che a 20 anni, per il ventunesimo anno Una volta era l'età di maturazione Prima che diventassi 18 Dal ventunesimo anno si proietta un lavoro Diciamo anche di espansione Intanto con i dati che dava Fabio Siamo di fronte a una fase di espansione Poi facciamo qualche piccola precisazione Che noi dobbiamo guardare le nostre qualità In un mondo e in un'Europa Dire solo che possiamo fare da soli Non ci aiuterà, diciamo Tranne di salvarci nella coscienza delle battaglie Ma noi dobbiamo anche vincere le battaglie E quindi abbiamo un'espansione Ed è giusto che questa giornata così intensa Grazie anche il presidente, il lavoro E tutto il lavoro Possa essere motivo di riflessione Anche nel pomeriggio Per gli interventi importanti che ci saranno Io, prima di dire alcune cose Diciamo sull'aspetto delle doppie CP E qui torno a qualche considerazione Si dice nel pomeriggio Il pomodoro buono Io aggiungo il pomodoro buono Bello e giusto Perché San Marzano diceva Giusto la rappresentatività Del sistema territoriale Sono state raccontate, diciamo Le intemperie dalle sementi Ad altro È stato richiamato Ocan Che tra l'altro il 19 settembre È stato a Caserta Ed è premesso, diciamo Che Ocan ha preso ulteriori impegni Nei pacchetti promozione Per la commissione Che dovrà elaborare sulle doppie CP Però dobbiamo anche richiamare Sindaco Giusto a battaglie Le amministrazioni qui sono un'asse portante Della difesa del territorio Che piaccia o non piaccia Premesse che dobbiamo modificare Adesso ho una fortuna in più Perché da alcuni mesi, diciamo A fronte anche di un quadro nazionale In evoluzione Prossimo anche a un'evoluzione Di sottoporre al popolo Diciamo Un nuovo Parlamento Ho voluto accettare Da parte del Ministero Da parte della Commissione Europea In questo caso rappresentata Dall'Onorevole Paolo De Castro Questa nuova funzione Di interessarmi Delle politiche agroalimentari Tra rapporto Italia E UE Quindi A Tommaso Romano Dico già da questo punto di vista Di qualche Pasquale Alcune cose che eravamo rimasti In sospeso Diciamo E anche delle deliberazioni Richiamate da Sidero Le riprenderemo Subito dopo le festività Andando al cuore dei problemi L'Europa Fabio Ha approvato C'è l'Europa Siamo partiti Dalla Regione Dallo Stato Un disciplinare Che è stato costruito In quegli anni Da parte Di chi Era interessato Al pomodoro Parte agricola E parte trasformazione Diciamo Se dobbiamo lavorare insieme E per me San Marzano Top Diciamo E il cuore Della mia cucina Diciamo Preferito Quindi Sono anche Parzialmente Diciamo Motivato Non sono 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 motivato Ancora di più Però dobbiamo dirci O qua hanno riprenduto Un concetto Riprendendo Il fenomeno Che in questi anni C'è stato Con l'apparazione Di quel disciplinare La Top E trasformare La parità Di San Marzano Si metterebbe Diciamo In altri Paesi A questa osservazione Perché lui Ha dato due risposte La prima interlocazione È stata Come del parlamentare Paolo De Castro Grazie al consorzio Che sollecitò Su questa Noi dobbiamo lavorare Dobbiamo lavorare Una strumentazione Che difenda Dentro il sistema Di modifica Di disciplinare Il tema Comodoro San Marzano Come territorio Agronocevino Lo sa anche Il vostro Enti centri Tra quelli Che conosco di più Che operano Con grande professionalità Che ha anche qualità Che bisogna Mettere in campo Non una Dimenticazione Solo Bisogna mettere in campo Gli strumenti Il supporto giuridico Affinché Hogan possa applicare Diversamente il suo concetto Del pomodoro Si è data Una di queste È una di queste È il richiamo Della vocazione Diciamo Quindi Abbiamo anche Uno strumento Di difesa Oltre a quello Di poter Ampliare E difendere La top Su questo Prima L'Europa Con i suoi funzionali Detto ciò Io credo che Il San Marzano Si inquadra Nel sistema Doppi GP E nelle politiche Del sistema Doppi GP Questo Apro tre Schemi Di considerazione Veloce La prima L'ho già Accennato Noi dobbiamo Far pesare Di più Il valore Delle doppie GP Che è un valore Ancora Da mercato Europeo Cioè La top De San Marzano E le altre Dobbiamo Lavorare In un Atto Che si è bloccato Con le elezioni Americane Affinché Dopo i GP Abbia le sue Difese Fuori dal sistema Europa E abbia Un suo Appillo Economico Di qualità Fuori dal sistema Dell'Europa Perché non ci basta L'Europa E lo dicono i numeri Diciamo Di questo fronte E quindi Noi dobbiamo Lavorare Affinché Per esempio Gli impegni Che ha preso Ocana A Caserta Diventino Nuovi Regolamenti Comunitari Per il pacchetto Promozione Il riaggiornamento Del pacchetto Promozione Voluto Dal presidente De Casper Che pone Maggiore Tutelo Valorizzazione E sviluppo Delle top BGP Che è una battaglia Dura Che dobbiamo fare Che l'Italia Deve fare In prima linea A iniziare Anche la sua Vita politica Con le terre Dell'Aubro Nocellino E anche Diciamo Era nell'alleanza Contadina Quindi conosce Più di me Il tema E noi dobbiamo Riprendere Quest'accordo Anche a livello Regionale Perché abbiamo Stabilito Con un programma Di 10 milioni Di euro Anche televisivo Di promozione Come Incanalare Di consumatori Nella media Grande distribuzione A specializzazioni Di aree Dedicate A doppi GP Abbiamo Una fila Di tutti I grandi gruppi Dobbiamo Lavorare Perché l'altro Tema È il rapporto Con i consumatori Che possono Meglio sfruttare I prodotti A marchio Doppi GP Seconda Vicenda Lavoreremo In questa nuova Funzione E il consorzio Sarà un protagonista A mettere insieme Anche le risorse europee Perché i consorzi Tutelo Hanno vissuto In questi anni Perché la promozione È un elemento Essenziale Sui mercati Ringraziamo Ringraziamo il dottor Corrado Martinangelo Che ci ricordava Come sia importante Fare sistema Ecco appunto Costruire una rete Di imprese Una rete Di operatori Imprese agricole E imprese Di trasformazione Per cogliere Le opportunità Che il futuro Ci presenta E che è Nelle politiche Agrivole Sia del ministero Che della comunità europea Per cui Noi possiamo Rassicurare Posso diciamo Ben insomma Rassicurare Di parlare A nome di tutto Il consiglio Che faremo La nostra parte Da questo punto di vista Poi parlava Di innovazione Ecco Quindi mi vorrei Ricollegare Al prossimo intervento Appunto In cui si parlerà Di nuove frontiere Della ricerca applicata Ecco Quindi Da un lato Fare sistema Attraverso Dei reti di imprese E dall'altro Puntare alla competitività E all'innovazione Che investono Anche nel nostro indietro Per cui io Ringrazierei Il dottore Martina E darei La parola Alla Non so Di volete Quindi Professor Rocco De Cristo O la professoressa Nicolaus Io Sono Tom Monaro Tom Monaro Un uomo Vabbè Comunque hanno Diciamo Delegato Omi Quali rappresentanti Del gruppo di ricerca Per parlare un po' Di tutto ciò Che abbiamo fatto Nel nostro istituto Allora Tutto Buongiorno Mi presento Io sono la dottoressa Tom Monaro E lavoro All'istituto di chimica Biomolecolare Del CNR Siamo a Pozzuoli Allora Io Avrò l'aiuto Di una presentazione Powerpoint Perché Vi farò Più o meno Una panoramica Di tutti quelli Che sono stati I nostri studi Condotti Al nostro istituto Che hanno avuto Come oggetto Il pomodoro Il pomodoro In linea Diciamo In senso Generale Quindi Abbiamo studiato Tanti pomodori E nel particolare Il san marzano E allora Questi studi Hanno avuto Due aspetti principali Hanno avuto Soprattutto Un aspetto Come dire Santistico Cioè Io Mi piace Dire Che il san marzano Che noi lo possiamo dire Perché i nostri studi Hanno dimostrato Questo Che Oltre ad essere Un pomodoro Come è stato definito Oggi Bello Buono E giusto Io aggiungo Che il san marzano Fa anche bene Alla salute E questo Penso che sia Un aspetto Importante Penso che In questo contesto Deba essere Sottolineato E valorizzato Dunque Io Faccio un attimo Ancora La mia presentazione Diciamo Io voglio E' un'altra cosa E lo dico Con molta sincerità Oggi In questo luogo In genere Noi facciamo Una ricerca scientifica Per cui Siamo abituati A Diciamo Illustrare I risultati Delle nostre Ricerche Ad una Platea Un po' Più Selettiva E Invece Oggi Devo dire Che mi fa Molto piacere Essere Qui In una Platea Che si vede Che ama Il san marzano Per cui E' come se Tutte le nostre Ricerche Che abbiamo Fatto E che hanno Dimostrato Quanto Questo Pomodoro Faccia bene Abbiano Un senso Quindi Insomma Mi fa piacere Trasmettere Questa Questa nostra Passione Diciamo Con cui Abbiamo condotto Questi studi A voi Presenti Qui Allora Io Quasi sempre Quando faccio Le mie presentazioni Del pomodoro Mi piace Iniziare Con questa Diapositiva Perché il pomodoro All'inizio Era visto Addirittura Come una specie Tossica Cioè veniva usato Semplicemente Come una specie Ornamentale Dopodiché In un secondo Momento E' stato Diciamo Dimostrato Che non E' una specie Tossica E per cui E' stato usato Anche nella cucina E praticamente L'Italia E' diventata La patria D'elezione Per l'uso Del pomodoro In cucina E' una piccola Repositiva Qui dove ho riportato Giusto Delle percentuali Per far capire Quanto L'Italia Sia un leader Mondiale Nella produzione Di pomodori Soprattutto Destinati Alla trasformazione Chiaramente I presenti Potranno Sanno sicuramente Molto più di me Rispetto a queste Percentuali Ma giusto Per far capire Quanto Diciamo La coltivazione Del pomodoro La trasformazione Del pomodoro E anche Diciamo Il consumo Proprio Al tavolo Del pomodoro Quanto sia importante Nella realtà italiana E soprattutto Nella realtà Lampana Aveva i suoi vecchi semi Quindi Produceva il San Marzano Sempre con i suoi semi E lì abbiamo fatto La sperimentazione Con questo semi Poi successivamente Anche con il cilio 3 Ma tutta la nostra Sperimentazione Di base Del San Marzano E con questo Tipo La prossima volta Per esempio Che risultate No ma lì abbiamo Anche risultati Quindi non bisogna Rettare Noi del pomodoro Sappiamo quasi tutto Quindi sappiamo Tutto del pomodoro Questo è importante Perché anche Nella valutazione Che il costore Mazzinaggio Lo faceva Anche in una rivisitazione Del disciplinare Questo è importante Inserire Perché noi Oggi abbiamo Il San Marzano 2 E il Kilos E il Mio Sicilio 3 Possiamo allargare Più varietà Che meglio si prestano Anche Al mercato Anche in prodotto Questo tipo di analisi Questo è un'idea Molto piacere Riprendiamo Certo Perciò mi sono soffermato Tutto No no Ma ha fatto bene Anche Insomma Anche un dibattito E una discussione Giusto che ci si Assolutamente Cioè Tra piantare un pomodoro Cioè Trasformare un pomodoro Con il più alto Perciò Alta percentuale Di un governo E lui è fondamentale Assolutamente Sì Perché noi abbiamo Fatto anche questo Cioè Noi abbiamo analizzato Questo pomodoro Prima E dopo la trasformazione E diciamo Ci sono state aziende Che hanno collaborato Con noi E quindi abbiamo Valutato anche questo E Diciamo Il San Marzano È un pomodoro Che conserva Queste diciamo Qualità nutrizionali Anche dopo La trasformazione Industriale Per cui abbiamo analizzato Pelati Passati Un po' Tutti i prodotti Principali Che noi troviamo In commercio E quindi Proprio perché Partendo Da un Un alto contenuto Di questi metaboliti È chiaro Che se se ne perde Una piccola percentuale Comunque Alla fine Io ho un prodotto Che è Diciamo Ricco Di sostanze Il comune E la provincia Di Salerno E Chiaramente Tutto questo Lavoro Non sarebbe stato Possibile Senza un gruppo Di ricerca Che lavora In un istituto Che è Coordinato E a voi Tutti Grazie Siamo noi Siamo noi Che ringraziamo Il nostro gruppo E ci preggiamo Di dare la parola Al professor Giordano Volevo farvi vedere Diapositivi Però Ho capito Che Vorrei in realtà Spiegare un pochettino Come La scienza In contra Nelle O Cerca di spiegare Dei fenomeni Che possono essere Misteriosi Oppure Per Si dicono Alcune cose Perché Per tradizione Perché si Tramandano Perché Le nonne Le zie Dicono Determinate Situazioni E spiegono Alcuni eventi Così Per Per sentito dire La scienza Non è così La scienza Ha bisogno Di rigore E bisogno Di Molto volte Anche Di periodi Lunghi Per cercare Di spiegare Le cose Noi dobbiamo Renderci conto Di una cosa Che L'ambiente Che ci circonda Condiziona Il 90% Di quello Che La nostra Longevità La nostra capacità Di vivere a lungo Di vivere Brevemente Di ammalarsi Di non ammalarsi Quando parlo di ambiente Parlo di tutto ciò Che ci circonda Abbiamo sentito Abbiamo sentito Lo smaltimento Di quello Che possono essere Gli scarti Del pomodoro Faccio un esempio Giusto per riprendere Una questione ambientale Quando Quello scarto Diciamo Viene rischiato Per esempio Con un rifiuto tossico E viene messo In una Quello scarto Quello scarto Genera Come un percolato Quello percolato Che sarebbe La parte negativa Ma delle falde E più Fere le contate Perciò Per esempio Le coballe Che stanno A tavera del re Vengono eliminate Ma oramai Il danno L'hanno fatto Quindi non è Quello il problema In quelle Quello che vale Vedete Che stanno Copertone Di gomma Plastiche Anche là Bisogna differenziare Bisogna vedere Plastiche Bisogna vedere Scarti di pomodoro Ma già il dato L'hanno fatto In questo caso Si vuole il dato Si vuole il rischio Scarti di pomodoro Ma proprio Per l'utilizzazione Ma non è tutto Non è tutto Non è questo Non è questo Non è questo Diciamo Io Negli anni Iniziato Dal sarmo Quando mio padre Ho fatto il lavoro Tutti i lavori Scenti Ho analizzato Attentamente Tutto Quindi Ti dico Dovrebbe Essere così Ma il rifiuto urbano È solo una percentuale Minica Che è stato usato Mischiato Con il rifiuto tossico Quindi ci sono Scarti alimentari Scarti alimentari Considerano che il pomodoro È il secondo Alimento più usato Ora si si rende conto Che anche Quello si può Riusare E poi È proprio un beneficio È una ricaduta positiva Come la poverà Lassia Come altre cose Però non è questo Diciamo L'audience Dove Parlo di un altro Interesse nostro Che è quello Il problema Il problema ambientale Lasciamo stare Vediamo Invece Come abbiamo Focalizzato Questa parte Splendida Che è Cercare di capire Il meccanismo Di azione Del pomodoro Il lavoro Il lavoro fatto Il lavoro fatto Appunto Che si era presentato Prima Il lavoro Dalla professoressa Nicolaus E Noi sappiamo Che Il farmaco È Per esempio Il chemioterapico È uno sparacchio Ma perché È uno sparacchio È uno sparacchio Non perché Il farmaco Di crescente Di colore Perché non si conosce Il meccanismo Di azione Oggi si parla Del farmaco Intelligente Della specificità E delle terapie Così personalizzate La medicina personalizzata Quindi Quando si è tramandato Per anni Fa bene Mangiarsi il pomodoro Fa bene Mangiarsi Questo altro alimento Fa bene Mangiarsi Si se la mandava Così Ma in realtà Non c'era Una spiegazione Reale Perché si stava bene Perché si stava male Il lavoro Fatto negli anni Già Dalla professoressa Del disco Dalla S.E.Colaus E tutto Il gruppo Di ricerca Dava già Una spiegazione Che poteva Che Chiariva Quelle che Potevano essere Delle leggende Tramandate Nei secoli Quindi L'estratto Di pomodoro È chiaro Che ha Una Ha delle Capacità Benefiche Per la nostra E quindi Un alimento Fondamentale Noi che abbiamo fatto Una cosa molto semplice Noi Abbiamo cercato Di comprendere In realtà Questo Possiamo chiamarlo Questo Chiamiamolo farmaco biologico Una volta Che stratta Che stratta Va bene Possiamo chiamare Anche Farlo Come una volta Messo a contatto Con la forma di vita Quali erano I meccanismi Nella cellula Perché Voi sapete Che Si sta bene Fisicamente Mi sento meglio Oppure Non mi da pesantezza Ci sono tante reazioni Che ci sono Ma in realtà A un certo punto Qua succede Nel motore Della cellula umana Che Voi sapete Che è un motore Perfetto Se avete la macchina Voi potete andare A riparare la macchina Se sapete Come funziona Il carburatore Come funziona La pompa Dell'olio Giusto Se no Come andate a riparare La macchina Se non conoscete Come normalmente funziona Per cui L'abbiamo fatto Abbiamo cercato Di comprendere Isolando La cellula tumorale Da un tumore gastrico Perché chiaramente I tumori gastrici E il tumore del colon Sono quelli più legati A quelli che possono essere Gli stili di vita Neappropriati Tra cui può essere Anche l'alimentazione Quindi noi siamo andati A vedere in realtà Prima del fenomeno generale Abbiamo visto che Quell'estratto di pomodoro Realmente aveva Una capacità protettiva E rendeva difficile Alla cellula tumorale Che è una cellula molto intelligente Che formalmente In realtà è una cellula normale Che però acquisisce Delle qualità incredibili Di immortalità Voi pensate Noi sogniamo tutti L'ongelità e immortalità E il segreto di immortalità Chi ce l'ha? La cellula tumorale Non ce l'ha la cellula normale Che nasce e muore Bene Ma ce l'ha la cellula tumorale E noi abbiamo avuto Questi risultati splendidi Perché dal lavoro di anni Che avevano fatto il gruppo del CNR Abbiamo, così funziona la ricerca Siamo arrivati a capire un meccanismo Cioè noi sappiamo adesso In realtà Questo farmaco biologico Biologico del pomodoro Ha un ruolo fondamentale Nel regolare Alcune molecole Cioè alcuni pezzi del motore Determinanti e importanti Per la nostra sopravvivenza Quindi protegge La cellula tumorale Trova una grande difficoltà A crescere A dividersi A cercare di invadere Gli altri tessuti A colpire A zone dell'organismo In maniera incontrollata Trova difficoltà Quando Si presenta Si presenta Oppure quando è sfidata Dall'estratto Del pomodoro Poi Siamo andati a vedere Come tutti i farmaci Come sapete Vengono generati 100 farmaci Poi vengono fatte Le sperimentazioni Si può capire Quale di quel farmaco In realtà È più Può portare Più beneficio Alla salute umana Poi si sceglie Il farmaco Così per eccellenza Bene noi Con una serie di estratti Dateci prima così Alla scena Diciamo E quindi Abbiamo selezionato Due varianti Una variante È il provo di San Marzano Che da quello che mi dicono E poi mi dico Anche il prossimo lavoro Che faremo Da quello che mi dicono È quello Originale Quello del Perù No Diciamo Quello di San Marzano Non puoi entrare In questo Che non è la mia Non è il mio Quindi entrare Il San Marzano Il San Marzano E anche il Corbarino Il Corbarino Ha un effetto Incredibile Un effetto simile Protettivo Per i tumori Alla Gastici Quindi noi In questo primo lavoro Stiamo mandando Una notizia scientifica Internazionale Quindi io Non faccio vedere Perché La nostra Prima di Comunicare Una notizia scientifica Così importante Deve essere prima Così validata Dalla comunità scientifica Che vuol dire Giordano De Pisco Nicolau Di Con un sacco E queste Oppure Dovete fare Non crediamo In questo esperimento Ne dovete fare Un altro Quindi potrebbero Chiederci Delle sperimentazioni O Degli esperimenti O Potrebbero fare Volevo chiedermi Questa La biologa Un'intenzionista Quali erano Le molecole Che andavano Ecco Questo pure Non lo possiamo dire Perché questo Non lo possiamo dire Perché Il Come ha detto La dottorissa Il pomodoro Facciamo finire L'intervento Sono delle molecole Che sono Dei guardiani Del nostro genoma Cioè Sono delle molecole Che controvano La proliferazione Cervale Sì la proliferazione La cellula impazzisce Sentite Guardate sul giornale La cellula impazzisce Il tecnico Medico Non possiamo dire La medico O il dottor Deviso Impazzisce Perché se è un giornalista Se va là Proliferare Si divide Quando la cellula Perde il controllo Si diventa Uno, due, tre, quattro, cinque Velocemente Questa è la cellula tumorale Crescita e incontrollata Impazzire Significa questo Quindi adesso Introduciamo la parola Proliferare Va bene Invece di impazzire Giusto Così Anche voi diventerete Ci aiuterete A ricercare Come il pomodoro San Marzano Come il pomodoro San Marzano Voi potete usare Questa parola È antiproriferativo Come le foglie Del San Marzano Va bene E questo io posso dirlo Lo possiamo dire Giusto Con i miei colleghi I miei collaboratori Professori Possiamo dire Che dai nostri Risultati scientifici Noi possiamo Definire Che le qualità Del pomodoro Di San Marzano Sono antiproriferative Poi Io Nella mia breve esperienza Purtroppo L'esperienza Anche alla questione ambientale Quindi sono abituato Con le conflittualità La conflittualità Viste che esiste In ogni ambiente In cui ci sono Uomini di buona volontà Diciamo E con interesse C'è sempre Una conflittualità È impossibile Che non esiste Una conflittualità Giusto o no Quindi Nel campo scientifico Noi Quelli litighiamo È vero Giordano ha detto Una fesseria Quella ha detto La verità Quella ha detto Poi Ci si confronta Su un'arena scientifica E la ricerca E il progresso E il conflitto di opinioni Significa anche crescita Perché non è detto Che un conflitto di opinioni Deve essere distruzione Il conflitto di opinioni Ci deve essere Finché è incostruttivo Allora Qui mi è venuta Un'altra Un'altra cosa Io sentivo parlare Napolitano Non sentivo parlare Non presidente Anche se Controlla ancora Allora Sentivo parlare Sentivo dirgli Ma Noi possiamo Ma ha detto Possiamo Ibridare Siccome noi ci educhiamo Pure io sto cercando Di capire bene Le varianti Pure io sono ignorante In materia Sui pomodori Quindi se tu mi fai Una domanda su pomodori Io mi confondo Mi riesco ancora Allora Se io dicessi Cloniamo te nuovamente Bene Clonare te nuovamente La scienza Lasciando parte La parte etica Non è importante Però clonare te È difficile Per tante ragioni Perché noi Geneticamente Possiamo clonarti Però poi Nella tua vita Un milione di noi Ha delle E questa è una legge Da guineare Insomma Non è l'individuo Più forte Quello che sopravvive Ma quello che si adatta All'ambiente Non esiste Nessuna patologia Comune o rara Dipende dal lato Dei tumori Di cui ci troviamo Si muore molto In Cina È un tumore Un tumore raro In Russia È raro in Italia O viceversa Quindi queste Sono delle leggi Delle epidemiologie Sono le leggi Della medicina La stessa cosa è così Se Napolitano Fosse cresciuto in Cina E non San Marzano Avrebbe lavorato Sulla 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 Nudo Sui spaghetti Del Marco Polo Chiaro Avrebbe avuto Desinteressi Differenti Avrebbe avuto Descaratteristiche Differenti Ci sono tante situazioni Che è impossibile Tu puoi creare Delle persone simile Anche i nostri figli Possono essere simili A noi Ma non sono i leggi Giusto? Quindi sono leggi Sono leggi Della generale Quindi Tu puoi creare Un ilbido Che può avere Delle proprietà Chiaro Può avere Delle proprietà Però non è Non è Può essere Più buono Può essere Meno buono Ma può essere Dei gusti Possi Sono altre Altre situazioni Noi andiamo a sviluppare Un test del DNA Pure attenzione Le radici Delle nostre malattie Il segreto Della nostra vita A livello del DNA Questa molecola È come Le impronte digitali Cioè Impossibile Dire O non dire O mentire Lo sapete tutti E oggi giorno Le maternità Si possono facilmente Determinare Il DNA Lo sapete tutti Noi faremo Anche questo Quindi dai test Noi potremo Realmente Dire È San Marzano È Corbarino Black Domino Questa non c'era tanto Quindi E a quel punto È chiaro Che il DNA Si può Ibridare Anche Però Per esempio Uno studio Che stiamo facendo Adesso Sempre in collaborazione Stiamo Prendendo i semi Del San Marzano Li stiamo Seminando In Florida O in O in 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 Philadelphia In New York I risultati Che portano Che nella prima generazione Non c'è un cambiamento Di proprietà Antengono quelle proprietà Però Ci vogliono Due Tre Quattro Cinque generazioni Che quel seme San Marzano Piantato In quelle zone Sicuramente Non avrà Le proprietà Che Esistono In questa zona Lo vediamo Nella presentazione Del 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 Dice in maniera Chiaramente In confronto il frutto Dei terreni in cui nasce E cresce Ecco perciò Ti voglio dire Quando parli di ibrido Devi tenere conto Quei ibrido Comunque potrebbe avere Delle proprietà Ma quelle proprietà Possono cambiare Completamente Se tu lo vai a piantare Ma neanche Delle zone in cui Ci sta letta Una Per esempio O altre Chiaro Quindi E sono rigide La genetica Noi gliel'abbiamo Noi gliel'abbiamo Inventata Quindi Io vorrei Che questo Fosse un incontro In cui Sulla base Di questa interazione In cui Noi dobbiamo Darvi delle Delle spiegazioni Precise Non possiamo Speculare Su qualcosa La scienza Deve dare Delle spiegazioni Che quale spiegazioni Ci mette A altre situazioni Nell'interpretazione Ci può anche stare Però la spiegazione E il rigore Dei risultati Che noi presentiamo Dicono Una cosa importante Che comunque Questo prodotto Che è il pomodoro Di San Marzano È un prodotto Che ha Delle Grandi proprietà Nel Proteggere La crescita Come ho detto La proliferazione Incontrollata Delle cellule Di un tumore Come quello Dello stomaco Quindi questo Lo possiamo Dire sulla base Delle sperimentazioni Di un lavoro Che durava 3 o 4 anni Non è durato Due giorni Quindi non è Che noi mettiamo Insieme Che cresce la pianta Dopo un buon lavoro Che è stato ripetuto È stato Affinato Sono stati trovati Una serie di Sono stati fatti Una serie di Di sperimentazione Ricorosa Noi continuiamo Il nostro lavoro E voi dovete Continuare il vostro Senza dedicare Ma cercando Di Rendervi conto Che avete Un Che avete Un prodotto Eccezionale Perché nel momento In cui esce Il nostro lavoro Credetemi Diventerà Sarete tutti quanti Sarete tutti quanti Sulla Line line Chiaro Tutti quanti Chiarano San Marzano Qualunque cosa Gli hanno Per uscire Una mela San Marzano Quindi Se non esiste Un uscirà Qualsiasi cosa San Marzano Bravo Capite San Marzano Quindi Fa parte Dell'altro lato Della metà Quindi volevo Ringraziare Prima di tutto Tutti i miei Collaboratori Perché mi ha dato Opportunità Io essendo Originale Di queste zone Poi ci mettiamo Anche la fede Che è importante Padre Mi dica tutto Volevo Per esempio Io sono stata Con la famosa Che In queste zone Si usa molto mangiare Quella ancora non matura All'insolata Diciamo Ma mi pare Se non sbaglio Quello che avete isolato voi È quello maturo Chiaro È una questione Di acido salico Capite Se lei mangi Un pomodoro Molto verde C'ha questa Piccola controindicazione Se sei matura Già si è trasportato Però questo È la propria Quando Poi dicevate No no Ma è giusto Ma questo è giusto Scusa Andrò Non dimenticate Che il pomodoro Senza l'olio Non vale Niente Zero Perché tutti Gli antiossidanti No Quando iniziamo Perché non è di più Oro Non è di più Credo che sia la posizione Un po' estremita E' così E' erodica E' Buonissà 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 Andiamo sul pomodoro Il pomodoro Che vi abbiamo usato Non c'era oltre E allora il risultato Adesso che succede In una ricerca Che non è nuova Ma è nuovissima E' chiaro Che ci sono Parichie varianze Perché ti arriva Lo chef Bastianici Che incontro in Florida E aveva letto Alcune così Alcune esternazioni Deve ho fatto il pubblico Non potendo far vedere I dati Bene Lei dice Ma che succede Se io cuocio Per 10 minuti 12 minuti 20 minuti Io che non so C'è neanche Un uomo Vente Capito Non ci sono Guarda Non lo so Noi abbiamo Questo risultato Solo a base Di questo E' chiaro Che noi Andremo Andremo La nostra idea Che questo modello Di ricerca scientifica In cui noi Cerchiamo di comprendere Il meccanismo Quando Si prende Voi comprate Un farmaco Un aspirina Prendete il foglietto Dentro E vedete Come funziona Indicazioni Controindicazioni Ebbene Noi quello Stiamo arrivando A fare La nostra ricerca Ci porterà A questo tipo Di spiegazione Poi è chiaro Che si capirà Anche in associazione Con altri alimenti Si capirà Si comprenderà E questo sarà Il programma Di una ricerca Ci vorrà Fonderita L'istituto San Marzano Qui a San Marzano Inizio Giusto Ecco Ecco Quindi E poi Dicare Però Dicare 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 Che poi Dopo Ci può essere Un conflitto Di opinione Che è ben Venga Però La scienza La finti Dà più risultati Mi ringrazio Nutracentica E' chiaro Che Per arrivare A dei dosaggi Chi ha Delle Carenze Non è che Uno si può Mangiare Die città Dei pomodori In mezz'ora Però Quando poi Gli studi Ti permetteranno Di identificare E di mettere La ricerca Anche questo Di mettere Insieme Questa serie Di sostanze Di udizie Estratte Direttamente Dalla Diciamo Dalla Frutto Che si Da dove Da dove E ciò Atletico Calcio Calcio Napoli Siamo stati I primi Allo Mondo Calcio Napoli Sono Calcio Napoli Dalla Società Almeno In questo Che Almeno In fortuna Del mondo Quindi Come Traumi Improvvisi Però Proprio Lo studio Integrato Il tuo set di fattori Anche A livello Di Di Ti permette A capire Per esempio L'atleta Che non sviluppa Non sviluppa Che dove I tessuti Non si rigenerano Facilmente Oppure Dove Hanno Delle problematiche Nella produzione Di acido Lattico E anche In questo Caso Qui Nella C'è Ci sono Integratori Naturali Quindi anche Contro Il doping Infatti Siamo stati Al CONI Ieri Perché Il CONI Vuole Promuvere Tutto Questa tecnologia Anche Con Passaporto Ematico Con Gli studi Di DNA Per la prevenzione Della patologia Cardiovascolare Diabete Perché Non difettiamo Una cosa Noi parliamo Di cancro Che il cancro È una malattia Così complessa Nel Sparaglio Però Gli effetti Maggiori Si avranno Anche Sulle patologie Cardiovascolari Che il numero Uno Come causa È il diabete Quindi Su questi Ci saranno Gli effetti Addirittura Più spettacolari Che sul cancro Che è una malattia Che richiede Una latenza Voi sapete Che c'è un periodo Di silente La tua cellula Sembra normale Comprovvisamente Si sviluppa La patologia Perché Così funziona Chiaro Quindi Questa componente Di questo supporto Di questi Non li chiamiamo Integratori Quando si parla Integratori Sembra quasi Si parla Di doping Si parla Di sostanze Ormonali Dopanti Ma diciamo Di Di queste Di queste Di questo supporto Va bene A quello che può essere La vita normale Quindi si Arriverà Realmente Prima di tutto A raggiungere Una serie Di risultati Incredibili Nella prevenzione Delle patologie Cardiovascolari E nel diabete Immediate Secondo me Saranno i risultati I risultati Più importanti Il calco Richiede più tempo Ci vorranno 5-10 anni Prima di riuscire Con gli studi Prospettivi Per dimostrare Poi che Nell'uomo Questo tipo Di effetto Per esempio Del pomodoro Potrà avere Un beneficio Insomma Però Si deve iniziare Da qualche parte Di problema Esatto C'era C'era dopo Perché c'è un prodotto E c'è un territorio Perché la combinazione Dei due Aspetti Che poi esprime Esprime L'identità La realtà Il San Marzano Diciamo Esprime Come diceva Questo giordano prima Esprime Tutte le sue potenzialità In questo ecosistema Unico Al mondo Unico Nel sistema solare Conosciuto Che è La pianura Intorno ai vulcani Gambani Che è Un ecosistema Agricolo Che per Costituzione Struttura Funzionamenti Evoluzione Non ha Confronti Con Con altri Ecosistemi Agricoli A scala A scala Planetaria Ora Quindi noi Siamo Nell'agro Noncerino Sarnese Una pianura Una pianura Che però Se alziamo Lo sguardo Vediamo Montagne Vediamo Volcani E il funzionamento Del ecosistema Di pianura Dipende Molto Da questa Conformazione Fisogratica Cioè L'agro E la Piana Campana Esprimono La massima Qualità Agronomica A scala Mondiale Proprio Per il fatto Di essere Una pianura Ai piedi Di vulcani Ai piedi Di Importanti Catene Montuose Perché I Monti Lattari Sono una parte Dell'Appennino Una cosa unica Nella Geologia italiana Nel senso Che è un pezzo Di Appennino Che ha sbagliato Strada E anziché Allinearsi In direzione Appenninica Si è messa Trasversale E va In mezzo Al mare Noi abbiamo I Monti Lattari Dove In due chilometri Passiamo Dalla macchia Mediterranea Al bosco Di faggio In cima Al faiito Cioè abbiamo Tutta la biodiversità Europea In due chilometri La pianura Che ha i piedi Di queste montagne Funziona In un certo modo Dal punto di vista Agronomico Pure perché C'è questa Particolare C'è questo Particolare Teatro Fisiografico Intoso Perché Vedremo I suoli Le acque Il microclima Sono tutti Condizionati Da questa Unicità Una pianura Celebre Celebrata Da duemila anni Nella letteratura Agronomica E non solo Da Virgilio A Ghete Tutti i grandi Spiriti Che sono venuti qua Hanno raccontato Questa pianura Voi sapete che Ghete Quando arrivò In un inverno Di fine settecento Sonnecchiava In carrozza Quando si sveglia Quando si sveglia Il pomeriggio Lui veniva da Somma Napoli E vede la pianura Campana Lui che non era Solo Il più grande Qualità europeo Diciamo Ma era Un geologo Un botanico Importante Era uno scienziato Si rende conto Di stare attraversando L'ecosistema Unico E nel viaggio In Italia Se noi vediamo I suoi racconti Delle nostre campagne Vediamo come lui Tecnicamente Scientificamente Descrive con entusiasmo Il nostro paesaggio agraria Il nostro paesaggio rurale Dicendo Non ho visto Nulla di simile Mai Ora Questa è La nostra pianura Come era Due secoli fa Come la rappresentazione Come la rappresentava Lusieri A fine Settecento Oggi È molto cambiata Ma Permangono Ampie porzioni Dello spazio di pianura Dopo Misureremo Quanta campagna Ci rimane ancora Che esprimono Tutta la loro Ancora Potenzialità Dicevamo Una pianura Contornata Da ambienti Montani Unici I monti rattari I monti di Sarno Il Vesuvio Con le due facce La faccia Mediterranea Che guarda Verso il mare E la faccia Vabbè Non c'è ordine I vulcani Flegrei Pure Ci hanno messo Lo zantino Questa pianura Che funziona Perché sotto C'è un motore Unico Perché Il San Marzano Esprime La sua potenzialità Genetica Su questo suolo Che è Tecnicamente Il suolo Più fertile Conosciuto Al mondo Un suolo Che proprio Per l'ambiente Che dicevamo Deriva Da Una storia Complicata Complessa Ma affascinante In cui Il vulcano Ha prodotto Le ceneri Fertili Che hanno Riembito Che hanno Coperto I versanti E la pianura Per strade Successivi Però qui La specificità È che L'alleato Del vulcano È stato il fiume Per cui Tutta l'idrografia Della piana Complessa Con tutti i corsi D'acqua Della piana Il Sarno Il Tuanio E tutta l'idrografia Minore Che viene giù Dai monti E porta giù Enorme quantità D'acqua Di altissima qualità A irrorare Alla piana I fiumi Hanno preso In custodia Queste ceneri Fertili Del vulcano Le hanno Rielaborate Ristratificate Per cui Questi sono Soli vulcanici Ma sono Anche soli Calcarii Perché Le acque Ricche In carbonato Dei corsi D'acqua Hanno Arricchito Quindi Noi abbiamo Una doppia Fertilità Qua Che è Tutta la Fertilità Vulcanica Per cui Queste ceneri Vulcaniche Se noi Le mettessimo In sacchetto Le potremmo vendere Come concime Granulare Perché Le ceneri vulcaniche Hanno Nel loro Reticolo Una quantità Di potassio Calcio Magnesio Cioè Tutto quello Che noi A pagamento Dovremmo mettere Nel suolo È incorporato In questi suoli Quindi Questi suoli Hanno una sorta Di fertilizzazione Interna La radice Viene continuamente Stimolata E nutrita Da questo flusso Di nutrienti Che viene Quindi Una cosa Assolutamente Unica Il San Marzano Può realizzare I suoi Livelli produttivi Straordinari Perché noi L'abbiamo detto Il San Marzano È una Macchima Biologica Unica Perché È una delle poche Piante Che coltiviamo Che coniuga Quantità E qualità Cioè Il San Marzano Produce molto E quel molto È di elevatissima qualità Noi abbiamo Molte produzioni tipiche Nelle quali O produciamo Molto O abbiamo Poca Produzione Di alta qualità Col San Marzano Questa regola Non vale Perché il San Marzano Per la sua Fisiologia Per il suo Modo di crescere Produce molto È tutto Di qualità Però Produce Se c'è Questo suolo Sotto E questo suolo Sta solo qui Perciò Diciamo Che c'è Un legame Con La geografia Non è Per un confine Amministrativo Ma perché C'è questo Connubio Tra Il suolo Più fertile Del mondo È una pianta Straordinaria Che ci venne In regalo Dal vicere del Perù In qualche momento Del Settecento E che qui ha trovato Paradossalmente Un microambiente Molto simile Alle valli Andine Nelle quali Nelle quali Per 2000 anni Era stato Selezionato Questo Urbano Di alta qualità Infinita Allora Non ci giriamo Intorno Tra le tante cose Che sono strategiche Qui ci mancano Tante cose La ricerca La rete Tutto quanto Ma qui Soprattutto ci manca Il prodotto D'accordo? Presidente Romano A quanti entri Stiamo Allora? Siamo 200 entri Per una Soluzione 110 mila 110 mila Presidente Romano Allora Io lo dico Da cittadino Che mi ha telefonato Un giorno fa Penso che lo scivano Un urbanista Perché ha letto Le cose che avevo Scritto Su Repubblica Dice Ma tu stai facendo L'urbanistica Per San Marzano Perché lo va a sfottere No? Come a dire Tu stai dicendo Come possiamo salvare Un territorio Come il San Marzano Io ci credo Noi Presidente Romano Andiamo a fare Un programma di lavoro Perché noi Rapidamente Da Pantiette 200 Ecco Allora Noi possiamo passare Nel giro di pochi anni A 1200 ettari 1300 ettari Che è un milione di quintali Ecco Con un milione di quintali Noi esistiamo Perché altrimenti Il San Marzano Non esiste D'accordo? Allora L'obiettivo Da qui a breve 1200 ettari Di San Marzano Dopodiché In un periodo Non lungo Dov'è arrivato A 6-7 mila Etari Di San Marzano E il suolo c'è Lo spazio c'è Le aziende ci sono Perché dobbiamo tornare Ai 5-6-7 milioni Di San Marzano A quel punto A quel punto Il San Marzano C'è pure a scala internazionale Se questo succede Noi vedremo Che la provincia di Napoli E Salerno Che mostrano Al fondo Della classifica Più il San Marzano Cresce Noi provvederemo Quei sistemi Metropolitani Che riguadagnano Arriviamo Alti nella classifica Della qualità Della vita Perché Le ultime classifiche Che sono uscite Del sole 24 ore D'Italia oggi Che vivono In questi territori Sarebbero I terzuti In Italia Per qualità Della vita Io vi dico Se noi partendo Dal San Marzano Cominciamo a dare dignità Allo spazio Avericolo E diamo anche dignità A questo spazio Metropolitano Senza dignità Creiamo Un'economia Eccezionale Da quale il sud Mi parte Con i nostri Grandi prodotti E creiamo Un tessuto Industriale Che non c'è Quindi Per me L'indicatore Di qualità Della vita E quanti Entri di San Marzano Sono 200 E un aspetto Che tra due anni Saranno 1.500 E vorrei Che tra dieci anni Avessimo Di nuovo 8000 Entri di San Marzano A quel punto Significa Che la campagna Si è rimessa in piedi E ha iniziato Un discorso diverso Ringrazio Rivamente Il Presidente Del Consorzio San Marzano In tutela Del San Marzano L'OP Il Presidente Tommaso Romano Al suo invito Io oggi avevo Un altro impegno A Roma Ma devo dire Che L'amicizia Che mi lega a lui Ma anche Alla stima Che mi lega Verso questa impronta Che sta dando Al Consorzio di tutela Che si è avuto Che si è avuto Ma stanno i 11 anni Possa In cui fa parte In cui fa parte anche La regione campagna Quindi non solo L'Università di Salerno Abbiamo sottoscritto Un protocollo In un'intesa Con il Consorzio Del Pomodoro San Marzano Sulla base di due Sulla base di due Come dire Di due osservazioni Il primo È che il Pomodoro San Marzano È uno dei pochi esempi Storici Dell'Italia Che scommette Sulla qualità Dei territori del sud È uno Dei pochi Casi storici In cui l'Italia Sceglie Non Il sud Come territorio Dove impiantare Industria Ma Sceglie Il sud Per la qualità Dei territori E in secondo luogo Perché Il Pomodoro San Marzano Rimanda Per forza di cose Al territorio Perché la promessa L'igualità Del Pomodoro San Marzano Non è soltanto Legata A quello che Affiora nel barattolo Quando si apre Ma soprattutto Alla storia Alla tradizione Alla comunità Territoriale E questo Non dobbiamo Mai Dimenticarlo Detto questo Vorrei portarvi Anche in dote Un dato Sapete che L'Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale L'ISPRA Ogni tanto Diciamo Per legge Sila Il rapporto Sulla contaminazione Delle acque Nazionale Ebbene Mi ha fatto piacere Vedere Io ho visto Su area Che non sono Quella di cui Parliamo Oggi Mi ha fatto piacere Vedere Tra tante Criticità Uno dei punti Portavano E quindi È un dato Che mi piace Riportare Volevo anche dirvi Parlando di consorzio Mi si è citato Hogan A me è piaciuta Questa battaglia romantica Sul pomodoro San Marzano Perché ha avuto Il pregio Di aggregare Tante forze E soprattutto Di far capire Ad alcuni comuni Nella reale Che ricadevano Nella reale Perché io Ho avuto Diretta scienza Che amministratori comunali Non sapevano Di portare avanti Una battaglia Per un prodotto Che da disciplinare Ricadeva nel proprio territorio Ma lo facevano Soltanto per spinta politica Perché non potevano Mancare in quella battaglia E quindi Questo ha avuto Questo è stato Un grande pregio Ma in realtà Hogan Che quando ha risposto Alle interrogazioni parlamentari Non lo ha fatto Uscendo da un ristorante Così di soppiatto Ma lo ha fatto Sulla base di un lavoro Preparato dai tecnici Ha detto la verità Cioè un pomodoro E' ammissibile Un pomodoro san marzano Di origini belghe Perché Perché il caso In cui Venga evocato Un bene Un territorio italiano La DOP Viene dato Al pomodoro san marzano Che viene coltivato In questo territorio Ma non esiste Legge europea Che assicuri Un marchio di qualità Sul seme Non c'è DOP EGP Surregistrazioni Di sementi Quindi questo Ce lo dobbiamo dire Anche perché In questo momento All'osservatorio In attesa di Rincontrarci col consorzio E parlare anche Di mappatura dei suori Stiamo vedendo un po' L'impatto regolatorio Di tutto ciò Che può rimandare All'ADOP Del san marzano E ragazzi Noi possiamo dirci Tranquillamente Che Come ha fatto Come ha fatto notare Anche il ministro Qualche tempo fa Noi si Parliamo di due tipologie Varietali Di pomodoro Mella disciplinare Ma se voi andate A vedere Il registro varietale Che è l'elenco ufficiale Io li ho contato L'ho scritto In un'idea reale Di qualche mese fa Ci sono 15 E vi parlo Da tecnico di contraffazione Questa è una criticità E è datissima Ci sono 15 varietà Orticole Che nel nome Richiamano san marzano Cinque altre Che nel nome Richiamano il termine Marzano Questo è un grave problema Dal punto di vista Della contraffazione Questi sono problemi Che vanno messi sul tavolo Perché In realtà Nella vita pratica Nelle dinamiche quotidiane Di tutti i giorni Al di là dei valori Delle dichiarazioni Di principio Che ci facciamo Nei rondevini Poi queste sono le dinamiche E quindi c'è anche Una difficoltà Nel controllo Perché Abbiamo sempre parlato Dill'oggetto del controllo Ma vorrei mettere Anche dalla parte Di chi deve controllare Il registro varietale Vi ripeto Porta 15 varietà Orticole San marzano E 5 varietà Che nel nome Hanno marzano Ma detto questo Questa grande battaglia Che si è fatta Per il pomodoro san marzano Del meglio Ma io vorrei dire Proprio oggi Che il consorzio Di tutela In base alle funzioni Che le sono state Attribuite Con un decreto Del ministero politico Agricole Del 2003 Esercita delle funzioni In via esclusiva Funzioni che la legge Definisce Non surrogabili E quindi Di miglioramento Della qualità Di modifica Del disciplinare Di produzione Di tutte le azioni Per difendere La DOP O anche Anche l'eventuale IGP Questo è il caso I consorzi di tutela Contro chiunque E ad ogni livello Troppe volte I consorzi di tutela Vengono tirati Per la giacca Troppe volte Ci sono sovrapposizioni Di luoghi Tra organizzazioni Di categorie Amministrazioni politiche A ciascuno Il suo È giusto Ripristinare La centralità Del consorzio Di tela Nelle dinamiche Di difesa E valorizzazione Delle dinamiche Bisogna guardare La strada Bisogna guardare Il futuro Intanto Scusatemi Se rilevo Questa criticità Perché guardando Un po' i giro D'Italia I vari consorzi C'è una sorta Di quella Che noi chiamiamo Asimmetria Informativa Troppi Operatori Allocano Sul mercato Con strategie Di branding Prodotti Con la licitura E il velo San Marzano Io chiedo Al consorzio Formalmente Di valutare Questa Questa dinamica Perché ne parlo Dall'appunto Il punto di vista Del consumatore Ora O tutti i pomodori San Marzano Sono certificati In un certo modo E quindi Tutto il pomodoro San Marzano Che in commercio È certificato come questo È vero San Marzano O io consumatore Quando sono di fronte A un baratto In cui c'è scritto Vero San Marzano Rispetto all'altro In cui non c'è Comunque il certificato Ho un problema È in crisi La credibilità Del sistema Di certificazione E questo è un problema Che il consorzio Deve affrontare Dal punto di vista Delle prospettive E del vino Un'altra cosa Abbiamo parlato Molto di territorio Immancabilmente Guardate che Negli altri settori Produttivi Si fanno passi Da gigante Nel vino Per fare un esempio Il paesaggio Di vinicoli Sono stati riconosciuti Con legge Paesaggio Culturale Nazionale Con tutte quelle Che sono Le conseguenze positive Qui Come Pomodoro San Marzano Avete un territorio Impareggiabile Impareggiabile E il bello Progresso E il riconoscimento Con gli effetti Collaterali Positivi E in questo Il consorzio Dovrebbe esercitare Una Funzione Di grande Di grande Impulso Perché è al consorzio Che viene rimandato Questo ruolo Il consorzio Deve essere Presidio di legalità E sentirena Di competitività E questo consorzio Che richiama Uno dei prodotti Più importanti L'Italia Del made in it In it Può farlo Può farlo Io ovviamente Non tolgo nulla Agli interventi Che mi hanno preceduto Perché hanno arricchito Davvero il dibattito Penso che da domani Il consorzio Sarà più forte In base a questo dibattito Però è giusto Anche affrontare Queste dinamiche Dinamiche di competitività Dei prodotti E dinamiche anche Di Adeguamento normativo La norma Si deve adeguare Alla società civile Troppo spesso Vediamo che il legislatore È più lento Della società civile E spetta La società civile E chi ha organi E chi ha poteri Di rappresentanza Fa da in curso Grazie Voglio aggiungere una cosa Nel corso di legalità Coroambientale Che si tiene all'osservatore Rampennino Milionale E ci sono alcuni Che hanno seguito Il corso qui in sala Che si ricorderanno Che quando abbiamo parlato Di terra dei fuochi Abbiamo parlato Del novembre del 1976 Nel novembre del 1976 Mentre si imponeva Quello che i tecnici chiamano Paradigma scientifico dominante Cioè che il tumore E ha trasmetto Una malattia Trasmissione genetica Quindi fissa C'era chi Faceva Studi Diceva Le pubblicava Per dire che L'ambiente Produce un impatto negativo Sull'essere umano Ed era il papà Di Antonio Prima di ringraziamo Il dottor Cercello Per il suo interessante intervento E prima di procedere Ad avviarci alle conclusioni Volevamo chiamare Presso di noi Donorevole Paolo Busso Per un saluto Sare qui A festeggiare 20 anni Di alterne vicende Nel senso che Sono 20 anni Importanti Ma 20 anni Che non hanno Sempre Con chiarezza Consentito A questo prodotto Straordinario Di eccellenza Non solo Di affermarsi Ma anche Di essere Esente Di essere Estraneo Esattamente A quelle Opportunità Di contraffazione Che pure Si sono misurate Straordinariamente Che sono state Anche rilevate Nell'intervento Che mi ha appena Preceduto Consentitemi Davvero Due Di ricordare Due vicende La prima La battaglia Che si è fatta Recentemente Trasversare Il consorzio Come ho ascoltato Le amministrazioni Politiche Guai Se le amministrazioni Politiche Non facessero A prescindere Dal consorzio La loro parte Io auspico Che piuttosto Le sensibilità Politiche Sempre di più Intervengano A tutela Di quei prodotti E di quei valori Che rappresentano Quella agricoltura Che ci piace Quella capace Cioè Di interpretare I luoghi Ma capace Anche Di interpretare Quei luoghi Di essere venduta Di essere competitiva Sui mercati internazionali Anche a decine Di migliaia Di chilometri Di stanza Questa è l'agricoltura Rispetto alla quale Il consorzio Saprà E sempre di più Saprà svolgere Quel ruolo di tutela Che la norma Gli consente Gli impone Ma anche Il sistema Delle realtà Politiche Credo abbiano Il dovere Prima che il diritto Di tutelare Questa specificità Mi piace molto Significare come L'attenzione Che si è dato Su questo prodotto È talmente tale E devo dire Ringrazio per questo Il ministro Che Sollecitato Nella trattativa La TTIP Ricorderete tutti Che nell'elenco Dei prodotti Del TTIP Mancavano alcuni Prodotti Meridionali Mancano ancora Tra l'altro Il TTIP È Come dire Lontano Nella sua Nella sua Definizione Finale Ma Nella trattativa Mancavano alcuni Prodotti Il ministro Devo dire Sollecitato E grazie Alla sua sensibilità Colse Questa opportunità Che riguardava Esattamente Il Pomodoro San Marzano E Introdusse In quei prodotti Che in sede europea Erano I prodotti A marcio Oggetto Della trattativa Con Gli Stati Uniti Introdusse Anche Questo prodotto Questo per dire Che Non guasta mai Quella utile Sollecitazione Trasversale E che Anzi Quella utile Sollecitazione Trasversale Deve Tradursi In Uno Sui territori Dobbiamo Aumentare Le produzioni Le aree Coltivate Sui territori Dobbiamo cominciare A fare un lavoro Che parta Dai suoli E che In una filiera Che non deve Considerare Estranea La parte Industriale Ma deve Considerare Prevalente E guida La parte Agricola In quella Ragione Bisogna Provare A misurare Sui nostri Comuni E parlo Dei comuni Agricoli Cominciando Per esempio A innovare Da questo punto Di vista Cominciando A mettere In campo Il valore Dell'agricoltura Il valore Della speranza Di agricoltura Che non deve Rappresentare Soltanto Una prospettiva Dal punto Di vista Del PIL Ma deve Rappresentare Anche Un modello Di sviluppo Etico Un modello Cioè Legato ai territori Capace Di fare PIL Capace Di fare Occupati Capace Di fare Utile L'impresa Capace Cioè Di utilizzare Quel brand Straordinario Che è Il pomodoro San Marzano Come elemento Valoriale Che va Al di là Dallo stesso Prodotto Per questa ragione Sono ben felice Di essere qui E vi ringrazio Per la cortesia Che mi avete Riservato Sapendo Che questa filiera È una filiera Importante Alla quale Ognuno di noi Deve qualcosa E dovrà ancora di più Nei prossimi mesi Misurandoci Sui temi Uno dei temi Che è stato posto E che mi piace Cogliere subito È quello Come dire Rispetto al vino Che in norma E per norma È stato considerato Come elemento valoriale Anche Come dire Il paesaggio Il paesaggio Cioè che diventa Elemento centrale In quella prospettiva Di filiera agricola Che non è solo prodotto Ma che è anche Evocazione In questo senso Possiamo lavorare Ovviamente Da parte mia C'è tutto l'interesse A farlo Interesse A farlo Non soltanto Per tutelare Casa nostra Ma anche Per tutelare Un'eccellenza nazionale Grazie Paolo Oggi è andata una notizia Dopo i venti anni Della top L'unico partito È la nazione Che può nascere Quello agricolo Quindi da oggi Partito È la nazione Allora Prima di avviarci Alla conclusione Puoi dare la parola A un basso Il nostro presidente Per delle considerazioni Mai Così interessante È stato un convegno Come quello di stamattina Senza dubbio Siamo quasi arrivati Del nostro duolo Come diceva Il dottor Cercita Del nostro duolo Istituzionale Del consorzio Ma credo Che il consorzio Ha bisogno Soprattutto Dell'aiuto Del mondo Della ricerca Del mondo agricolo Di tutti Credo che Nasce l'esigenza Di creare Una comunità Tecnico-scientifica Dove ci possiamo Continuamente Confrontare E stare insieme Con la speranza Che questo Ci porti Di frutti Positivi E che l'anno prossimo A questo tavolo Staremo A vedere Di benefici Di questo nostro Continuo Cooperare Tra tutte le parti Della Finiera Buon appetito Cioè voglio dire Per noi è illogico Pensare Che San No San Non è puntato Però è stato questo Detto questo All'epoca abbiamo E io voglio Iniziare Incominciare Questa cosa E non parlerò più Quindi la mia parte L'ho già svolta Perché mi toccava fare questo Voglio iniziare Questo incontro Velocissimo Così non stranghiamo nessuno Con una testimonianza La prima testimonianza Che le do È al dottor Avvocato Mattia Faiella Che è qui Che è Chi è È il Nipote Di un nostro Caro amico Senatore Alfonso È il nipote Del professore Gennaro Corvino Che è quello Che ci tormentava Tutte le mattine Senatore Ci diceva la verità Tormentava a voi Tormentava a Alfonso Tormentava a me A tutti Voleva sapere Momento Momento Dove A che punto Stava la pratica Dove eravamo arrivati A chi l'avevamo presentata Chi aveva detto Sì Chi aveva detto No Chi era contrario Chi era favore Cioè Non era un giornalista Era un censore Uno che faceva la cronaca Ma soprattutto Era uno Che amava Il territorio Allora Io voglio dare la parola A Mattia Per questa testimonianza Buonasera a tutti Grazie per l'invito Rivolto a me Saluto Gli autorevoli Relatori Ai quali Ruberò giusto 60 secondi Per dire cosa Dire che Quando il dottore Fabrizio Di Giacomo Che saluto Ringrazio Mi ha telefonato Per invitarmi Il mio cuore Si è riempito Di gioia Perché Anche dopo Quattro anni Dalla scomparsa Di mio nonno Viene così Piacevolmente Ricordato E questo Non può che far Piacere Infinitamente A me E a tutti I miei familiari Lui Era Fissato Col pomodoro San Marzano Non è che era Una sua passione Era di più Tant'è vero Che Il dottore D'Algunzi Mi era ragione Probabilmente Il pomodoro San Marzano Era L'argomento Numero uno Che lui Trattava Nei suoi Articoli Di giornale Infatti Probabilmente Tre Quattro Settimane A meno Tant'è Che Ogni mattina Alla buon'ora Lui faceva Due telefonate Una la faceva Ai carabinieri Per sapere Se nella notte Fosse successo qualcosa L'altra Telefonata La faceva Pasquale D'Algunzi Per Conoscere L'andamento Della produzione Per sapere L'aspetto burocratico Come andava avanti E Diciamo Per promuovere E pubblicizzare Il San Marzano Che a suo avviso Era stato Era E doveva Continuare Ad essere Il fiore all'occhiello Dell'agro Sarmese Nocerino E Ci teneva Così tanto Poi l'altra Telefonata La faceva D'Alfonso Andrea Ci teneva Così tanto Che All'età Tenera Di 88 anni Quando Ormai I giornali Non permettevano Più Che gli articoli Fossero mandati Scritti Battuti a macchina E' stato capace Di imparare Ad usare Il computer Pur di Continuare A pubblicizzare Il pomodoro San Marzano Che doveva Assolutamente Essere Fiore all'occhiello Dell'agro Nocerino Sagresi Oltre al fatto Che poi Lui Nera Un vero Proprio Bungustaio Io mi fermo Non rubo Altro tempo Il pomodoro San Marzano Deve continuare Ad essere Uno dei prodotti Capofila Della nostra Area Grazie a tutti E auguro Un buon Natale A tutti Grazie Mi piace Anche Lo spire Con il quale Facciamo Questi Interventi Nel senso Che oltre Alla brevità Noi diamo Buonasera a tutti Grazie Per l'invito Porto Ovviamente I saluti Del consigliere Lafieri Che purtroppo Ha preso Le prime Influenze Diciamo Stagionali E ci teneva Però che Portassi Il suo Saluto Ringrazio A me Pasquale Per l'introduzione In effetti Con il mondo Del pomodoro Sia dal punto di vista Industriale Che dal punto di vista Agricolo Ho un rapporto Ormai consolidato Perché Io sono stato Per lungo tempo Al ministero Della Edica Produttiva Quindi seguivo Anche Questo comparto Sono stato In Regione Campania All'assessorato Ottività Produttiva Per dieci anni E quindi Ovviamente Sono fatto Una competenza Un'esperienza E un'interlocuzione Fitta Con il mondo Dei conservieri Adesso Diciamo Su fronte agricolo Ovviamente Cambiato Nel tipo Di interlocutore Ma il comparto È sempre quello Quello del pomodoro Sicuramente È protagonista Della economia Agricola Regionale Io mi limiterò A poche battute Per tenere Diciamo In fila Tutti gli interventi E Ho discorso Ma dovrò Allontanarmi Perché Ho altri Impegni Diciamo Istituzionali Mi limito Alcune considerazioni Il tema È sicuramente Un tema Importante Il ventesimo anniversario Del pomodoro San Mazzano Noi abbiamo Come Regione Campania Dato con grande piacere La nostra adesione Questa iniziativa Con il nostro Patrocino Perché è un evento Assolutamente Importante Ho avuto la possibilità Diciamo Essendo intervenuto Il tarda mattinata Anche di ascoltare Un intervento Tecnici E Già Stamattina Sono state fatte Le osservazioni Le considerazioni Che Hanno evidenziato Un po' Forse La contraddizione Di questo Settore Del pomodoro Di San Marzano In particolare Cioè che È ancora Diciamo Accompagnato Da una notorietà Fondamentale Fortissima Ma ancora Purtroppo Non riesce A diventare Maggiore Ed Cioè pur avendo Conseguito Di vent'anni Diciamo Di milizia È ancora Non riesce A dare Quei contributi In termini Di produzione Che magari Dovrebbe Dovrebbe essere I dati che Il consorzio Ci ha fornito Ne abbiamo parlato Anche stamattina 200 ettari Di cui certificati 110 mila Pintanti Per prodotto fresco L'ospice Destinato a pomodoro Circa 3.300 ettari Produzione di circa 5 mila Pintanti Quindi Sono dati Non minimali Ma comunque dati Che Non danno Diciamo Il contraltare Di quello Che dovrebbe essere Diciamo La produzione Autentica Diciamo La notorietà Che accompagna Questo prodotto Quindi Una bassa incidenza Ovviamente Sia in termini Di superfici investite Che in termini Di produzione Ottenute È sicuramente Sono elementi Negativi Che debbano Spingerci Tutti quanti Ciascuno Per le proprie competenze A lavorare Perché i risultati Possono migliorare Nonostante questo Però Comodoro San Marzano Costruisce Comunque Un fiore all'occhiello Nel combattio Ovviamente Lo sapete meglio di me Che tutti gli esperti Del settore Ciò qui a pianto Insomma Due Mi funzionari Che insomma Sono Molto più esperti Di me Con la materia Da punto di vista Tecnico Lascerò Le mie ottime mani Della Dottorista di Mauro Dottorista Spigno E Tra l'altro Ho scoperto Che l'approvazione Del regolamento Della 1263 Della commissione È avvenuto Ricordata prima Pasquale Del 1996 Io ricordo anche Il giorno Perché il 10 luglio È il giorno in cui È nata Dottorista di Mauro Quindi vuol dire Che non poteva I conto passi Di Pomodoro San Marzano Non solo di Pomodoro San Marzano Però sicuramente È una combinazione Non casuale Tutte le cose Non capitano mai Solo per il caso L'abbiamo scoperto Adesso insieme Insomma Ci veniva a fare Questa parola E Che è significativa Ve lo chissà Che è quello che Ha detto prima L'importanza Del duro svolto Dall'antico Di questa No Non ho detto Che sei nata Nel 1996 Purtroppo perché Non sei nata Nel 1996 Però non potete Essere qui Con il testimone storico Se sei nata Nel 1996 Questa che devi Accontentare La storia Allora Stamattina Diciamo Si è parlato Anche delle Vicende Recenti Che La vendita Sul bagno Della grande Istituzione Belga Di confezione Di Pomodoro Che portava In etichetta La decidura A San Marzano Non voglio Entrarvi In questa Discussione Che c'è stata Stamattina Non la facciamo Vero Non la facciamo Però Voglio dire Anche queste Insegnate L'opera Che deve essere In dettaglio Chiudo Ovviamente Facendo un passaggio Veloce Su quello che è più Il mio campo Di intervento Di applicazione Il PSR Insomma Da tanti di voi Insomma Atteso E che insomma Sta prendendo Finalmente Slancio Insomma Abbiamo già Attivato Nei mesi scorsi Una serie di misure Ne attiveremo A breve Delle altre Abbiamo avuto Un incontro Nei giorni scorsi In sala giunta Con il presidente Di Luca E con le organizzazioni Agricole Abbiamo convenuto Una serie Di accelerazioni Sull'apertura Di nuovi bandi E anche Abbiamo condiviso Un percorso Di modifica Di alcune parti Del programma Che necessitano Di essere Meglio adeguate Quali sono le esigenze Del mondo Del mondo agricolo E quindi C'è un discorso Diciamo Che si sta portando avanti Che credo Possa essere Foriero Di ottimi risultati Perché quando Le scelte In qualche modo Sono condivise Tra chi le deve mettere In campo E chi le deve utilizzare Ovviamente Non può che essere Un fatto migliorativo E più che un fatto positivo Anche per l'economia Regionale E noi Siamo assolutamente Disponibili A fare la nostra parte Ci sono misure Come la 3 Sui regimi di qualità Del prodotto agricolo alimentare La misura 4 Alcune misure Sono già partite Altre Quelle da sull'agroindustria Partiranno a breve Sono quelle che probabilmente Interessano di più Questo comparto La misura 16 Sulla cooperazione Sulla quale Chiamo la vostra attenzione Ma non credo Ce ne sia bisogno Perché vedo Che punti di cui Stanno lo cenno Con la testa In senso affermativo Perché effettivamente È una misura Che potrà Intercettare Soprattutto per la sua Controvalente Ricerca e innovazione Molte iniziative Di questo Comparto E quindi Siamo pronti A fare la nostra parte Voi Dovreste fare la vostra La farete sicuramente E Con questo auspicio Io vi lascio La prosecuzione Dei lavori Confermando Quando già Pasquale Ha anticipato Che nel senso Che la direzione Che è un onore Di rappresentare È ovviamente Sempre a disposizione Anche perché Il San Marzano È più vecchio Della DOP Attenzione Non è che è nato Con la DOP E il San Marzano Come parola E come prodotto Nel mondo È identificato Molto di più Di quante sono Le produzioni Che noi facciamo Quindi È bene ricordare Questo fatto Questo però Che cosa può significare Che tutte le azioni Che anche le istituzioni Anche il supporto Delle istituzioni Possono fare Possono essere La palestra Per tanti Che vogliono fare Marketing Nel mondo E quindi Attraverso la DOP Tanti ragazzi Potrebbero Fare la prima esperienza E te lo dicevo prima La seconda cosa È che Con la commercializzazione Della DOP Noi possiamo Commercializzare Anche Altri prodotti Avendo un biglietto Da visita Presentandoci Con il frac E non Con la semplice Caranta Quindi Ecco Il motivo Per il quale È molto importante Che noi arriviamo Ad esaltare Questo prodotto Cioè Per questa cosa Tante volte Mi sono dovuto Legare da lei E non pochi Contrasti Ho avuto Con questa ricerca Di me Però i contrasti Hanno arricchito La nostra amicizia E la nostra Grazie 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 La presentazione Grazie Pasquale Grazie Grazie al Consorzio Di Tutelo San Marzano Effettivamente Si parte Dal segno Perché Quando Il dottor Attalasio Fece Diciamo Una richiesta Come ha raccontato Pasquale Della DOP Per avere La DOP Del S puntato Marzano All'epoca Diciamo Le cose In casa Campania Non andavano Troppo bene Il pomodoro Perché Era successo Qualcosa Qualcuno In passato Ma purtroppo Anche il presente Erroneamente Pensa che Il San Marzano Nei nostri territori Era scomparso A causa Di navirosi Non è così È stata La ciliegina Sulla torta Quello Che ha fatto Scomparire Il pomodoro San Marzano Dai nostri territori È stata Introduzione Di ibridi Determinati Molto più produttivi Molto più Consistenti Meno fatica Per i produttori Si pagava Per quantità E non per qualità Scusate Gli agricoltori Giustamente Hanno scelto Anche Quelli Dell'agro L'oceano Sardese Dell'agro Cerano L'anno Che è l'altra Area importante Per la produzione Della DOP Noi però Come centro di cerca Allora Dell'acidio Consapevoli Che il nostro territorio Aveva una storna Tradizione Le cose Che ha detto Pasquale O che avete già sentito La particolarità Del legame Stretto Tra questa produzione Molto particolare Tutto manuale E il territorio Dicemmo Ma Quali sono state Veramente Ste cause Che l'hanno Fatto Abbandonare La virose Non ha detto La ciliegina È stata Perché poi La cosa Spolpina Anche i libri Di quando si metteva In capo All'epoca I problemi Erano problemi Di insolescenza Proprio Del seme Cioè nel senso Che i vecchi E continui Non avevano Nessuna resistenza E allora Forse Dobbiamo Mettere Qualche resistenza Di pomodoro Di pomodoro San marzano Aveva qualche Difetto Di collettatura Significa Una macchietta Diciamo Arancione Quando colora Perché aveva Una spalla verde Molto marcata E spesso Non riusciva A colorare Bene Il pomodoro Il pomodoro San marzano Non è tutto Uniforme Sulla pianta Sotto Le fa più grosse E se le tagliate Sono praticamente Vuote Quindi c'era un po' Di scatolatura Sopra le faceva Troppo piccole Quindi noi siamo partiti Da quelli che potevano Essere i problemi Però con un solo Paletto Indissolubile Al quale Fortunatamente Siamo poi riusciti A ottenere Che era la qualità Cioè Il pomodoro La nuova costituzione Di pomodoro Non doveva essere Differente Dal punto di vista Organolettico Qualitativo Rispetto Ai vecchi ecotipi Che voleva S'ammazzare Abbiamo fatto Questo lavoro Di miglioramento Generico E tra Centinaia e centinaia Di linee Che ho selezionato Alla fine E' uscita fuori La varietà Che attualmente Si usa per la dopo Che è questa varietà Che si chiama Dios Io vorrei raccontare Un piccolo episodio Divertente Quando è Che anche noi Perché poi Introdurre una nuova varietà Anche presso gli agricoltori Che sono spesso Molto diffidenti Non è cosa semplice Cioè Uno non lascia Mai Quello che conosce Per aprirsi all'uomo Così Tranne qualche eccezione Bisogna Diciamo Come dire Essere bravi A far capire Che c'è qualcosa Ebbene La cosa che mi fece capire Che forse Eravamo Nella direzione giusta Fu quando Facendo E c'era anche La dottoressa Di Mauro Qui presente Una visita A un campo Di pomodoro San Marzano Nella nostra azienda Sperimentale Perché tutto questo Vi voglio dire Che la selezione Di questa varietà È stata fatta In area DOP Tutto quello Infatti La varietà È molto Diciamo Dipende molto Dal territorio Se la portate Al di fuori Dell'area DOP Di un terreno Con carica Non ha le stesse caratteristiche Io non dirò mai Che la nostra è la più buona Dirò sempre Che Cordillata Nelle nostre aree È diversa È diversa perché C'è questo famoso matrimonio Che la rende unica Cioè Il terreno Il genotipo E l'ambiente Per cui Può darsi anche Che faccio Una frase Un paradosso In Cina Possono venire anche più buono Ma non sarà mai Come la nostra Non avrà mai Quella sapidità Quella 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 Particolare mineralità Che ci danno I nostri terreni vulcani Potrebbe anche Piacere di più Però La nostra varietà Le nostre varietà Sono uniche Perché c'è questo terreno Vi racconto Questo episodio Che mi disse Ok Secondo me Ci siamo Siamo sulla strada giusta Visita Diciamo Di agricoltori Nella nostra azienda Dove noi avevamo Questo campo Dimostrativo Quindi avevamo fatto Prove più grandi Per vedere Se economicamente Oltre che Oltre che Analyticamente Perché facevamo Una continuazione Diciamo Analisi Per capire Il gradiobricks Il colore La sapidità L'acidità Soprattutto Perché Chiros Per esempio Ha un'elevata acidità Rispetto ad altri pomodori Ma questo non significa Che è acido Che non è buono Anzi Questa è un'acidità Positiva Che legata Agli zuccheri Ti dà Satilità Insieme a qualcosa Di particolare Che infatti Secondo me Chi assaggia Un pomodoro pelato Chiros Una volta che L'ha mangiato Cotto Non te lo dimentichi Più Proprio perché C'ha questo Sapore particolare Legato A Le composizioni Acidiche Che ha All'interno Del pomodoro Dicevo Quando Dissi Ok Qui ci siamo C'era anche Quando Quando a un certo punto Facciamo questo giro In questo campo Facciamo quindi Con gli agricoltori Un agricoltore Si Quando guarda La pianta Diverse piante Di questo muro Rosso Di pomodoro Si incinò Che dice Ah Finalmente Abbiamo il pomodoro San Mazzaro Perché chiaramente Se noi non avessimo Fatto questo Questo programma Di miglioramento Già di voi Guardate Durato diversi anni Tra cui In quegli anni Aveva anche Nel 96 E anche Il più attuale Unico figlio Quindi Io ho lavorato Anche in campo Facendo selezione Quando aspettavo Un bambino Però Stavo bene Fortunatamente Quindi La cosa Che è andata bene Per questo odio Per cui Dopo 6 anni Di selezione Siamo riusciti A ottenere Questa varietà Che poi è stata Registrata All'epoca Fu preventata Fu registrata E che quindi Oggi rappresenta Diciamo Il diffuso Io voglio dire Una piccola cosa Sul futuro Perché è vero Che sono qui E rappresento In qualche modo La storia passata Però Credo che Proprio per i numeri Che diceva Dottor Piat Prima Sulla quantità Di ettari Che ancora oggi Dopo 20 anni Abbiamo Avendo una potenzialità Enorme Cioè Noi abbiamo Ancora 7-8 mila Ettari Che potenzialmente Possono essere Continuati a Poi Pomodoro Anche perché Negli anni Ottanta Quando poi È successa La crisi Del pomodoro Lungo Indeterminato Perché i costi Di produzione Erano troppo più alti Se paragonati Non facendo differenze Sul sapore Oggi è matura Le persone Con i suoi Riescono Riescono a capire Le differenze Che ci sono Tra un pelato Indifferenziato Rispetto a un prodotto Che in cui tu senti Anche il territorio Senti molto Questa apparenza Perché se l'è stato Selezionato Il logo E quindi Il rapporto È strettissimo Il legame Allora Volevo dire Che per quanto riguarda Il numero di ettari Siamo veramente Ancora troppo poco Contro Potenzialmente Circo 8000 ettari Noi facevamo Cioè non noi I conservieri Facevano circa Un milione Diciamo di tonnellate Di pomodoro Pelato San Marzano Ed era Praticamente L'Italia Produce nel pelato Per tutto il mondo Allora È probabile Probabilmente Bisogna intervenire Credo Le misure del PSR Sì Però Si deve pensare A un progetto Di filiera Comune Dove Dove Sottolineo La parte Agricola Il produttore Amicolo Deve essere Deve avere La sua giusta Remodelazione Cioè il prezzo Che si deve pagare L'incoltore Deve essere quello giusto Anche perché Lo diceva Pasquale L'ha detto E lo diranno Probabilmente Anche gli altri Se È vero Che questo pomodoro È il pomodoro Più copiato al mondo Quello più conosciuto È pur vero Che lo possiamo fare Così com'è Solo noi E allora Questo fatto Che lo possiamo fare Solo noi Deve avere Un peso Importante Un peso che però Di valore Che deve però Essere ben distribuito Su tutta la figura E chiudo con questo Grazie mille L'abbiamo pagata Perché L'abbiamo pagata Perché A Patrizio Noi dovevamo dare Noi dovevamo dare Vi dovete sentire Questa cosa Ci direte Il primo anno Ci dire dei segni È vero o no Allora Noi gliel'abbiamo Sempre promesso Che gli avevano Di sotto Sempre consentiti Di una volta Prasparato Allora Qua abbiamo incominciato Qua si sta ammazzando Il dottore Atanasia Grazie al colpito deletto Grazie al rischio Da grano Il capo Il dottore Atanasia E va avanti In piedi Perché deve scopalire In capo Qua si sta ammazzando Però Grazie Non lo so Se è un po' Niente Ammazzato Non dice annunziare Non lo so Il cavaliere annunziare Domenico Vistanti E Domenico Vistanti E Domenico Vistanti E Domenico Vistanti E Domenico Vistanti No Abbiamo fatto Per quint'anni I campi Vistanti 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 era Pato Io eri più Paladero Il cavaliere L'ordine Annunziare Eri più Malagò Poi Quando siamo andati A Roma A Caronbiang La siamo andati Con un direttore A colpito diretto Pasquale Pasquale Carastro No De Vico Franco Vistanti Franco Vistanti Il secondo momento Può partare la classica E' un paese Pasquale Ha pubblicato A tutti i quadri Però Dottore Una cosa Dottore Dottore Sono 50 anni A Costa Marzano Costa Marzano Costa 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 La fatica E' Dottore Una cosa In più Diceva Perché Non ci stiamo ancora No Non ci stiamo ancora Proprio A Proprio A Proprio Non so Dobbiamo impegnare Ancora Questi Siamo ancora A alto livello Ma Giustamente Noi Come Contadini Iso Contadini Da Tanti Contadini Onorriere Pinto Forse Caccafote Ne abbiamo parlato Anche Cattesero Quando Prima Che era Senatore Ad Dottore 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 Dobbiamo migliorare Però Sì Ci danno Sì Ci danno Anche Cattesero Dottore Si può Obraccio Poi Andate Un strato Poi Obraccio Pagli Dottore 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 Scusate Scusate Poi Dottore Dottore Scusate Tanto Pientate Dottore 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 Ci sono altri problemi E i cambiamenti climatici I 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 Cioè Il messaggio Ok Vi ringraziamo Il messaggio Il messaggio Di che Dottore Dobbiamo ancora fare Dttore E io Su questo Ci sono Nel senso che Se dobbiamo Andare avanti Bisogna per dare più soddisfazione bisogna ricevere allora noi ci auguriamo che la ricerca ci aiuti a migliorare la quantità e la resa perché non è stato e Ernesto Manzo all'epoca era col diretti ed era uno di quelli che bravo il segretario di zona che si battagliava il dottore Bulleri invece che vede dal fianco è uno che come dire ha arricchito questo percorso nostro perché dopo la DOP del San Marzano lui è riuscito ad avere il riconoscimento della DOP del Cipollotto cioè attenzione perché io non vi metto queste due tipi perché Ernesto Manzo era uno che è abituato a fare il sindacalista agricolo correndo nei terreni di largo e di lungo Bulleri è uno che ha capito come era anche nelle mie intenzioni che noi nel prossimo futuro e poi ogni tanto ci metto anche qualcosa di mio non possiamo fare luminarie nell'agro capitemi ma possiamo fare le luci del gusto che è una cosa che fa suonare bene i miei litieri soprattutto è un amico Alfonso Angra che da presidente del patto sa che quanto ha cercato di dare in questo senso cioè con il San Marzano dopo con il cipollotto dopo e con tutte le produzioni che stanno a confine di pasta e altro che vengono da Cagnano se noi cominciamo a lavorare anche su tante restaurazioni che abbiamo nell'agro e con tanti amici sindaci sensibili come il sindaco di San Marzano dico perché è così che è sempre stato sensibile a queste cose noi potremmo organizzare sicuramente anche in periodi non forse troppo festivi delle settimane della gastronomia indirente nell'agro e far vivere di questa difficità queste terre grazie ai prodotti degli agricoltori alle industrie che lo producono e ai ristoranti che lo possono servire a chi vuole venire nel nostro territorio unitamente a questo gruppo di persone che sono state come dire già ricordate dall'amico Pasquale perché noi abbiamo vissuto quei momenti anche con grande come dire combattività anche su posizioni diverse da parte industriale e per l'agricola ma c'era tra di noi e con noi anche il cuore generoso di un uomo che si chiama Franco De Vivo dico si chiama Franco De Vivo che era l'allora direttore della Contivatori Diretti e che in questo momento penso stia insieme a noi ed io mi sono formato con lui ho vissuto insieme a noi le sue battaglie e poi rappresentate anche l'amorevole Pinto che abbiamo provato terreno fertile e abbiamo provato la possibilità di raggiungere l'obiettivo spiegato attenzione però voglio dire attenzione a non perderla questa io sono preoccupato per questo al di là delle dichiarazioni solenni che tutti quanti di noi possiamo fare però la produzione che noi trasformiamo è poca la sottrazione di terreni che abbiamo in questo territorio è considere come enorme non proporzionata alla scelta di campo in materia agroalimentaria che teniamo stiamo credendo in uno sviluppo industriale che non è l'agroalimentare e allora tutte le sollecitazioni tutte le dichiarazioni solenni che noi possiamo fare dovrebbero essere portate all'insegna di una razionalità e soprattutto nella individuazione di poche iniziative ma a volte ad aumentare la produzione e vi dico che non è colpa dei produttori i quali produttori sono pronti ad investire il pomodoro san marzano in pomodoro san marzano un'ultima cosa vorrei dire io chiederei di valutare la possibilità con il regole vinto e mi rivolgo alla sua attenzione di giurista attento quello di poter andare a trascrivere nei registri immobiliari del nostro territorio i terreni che sono destinati a San Marzano io faccio la comanda mi scrivo al consorzio di valorizzazione trascrivo nei registri immobiliari voglio dire la produzione che vado ad avvenire di questo mondo e destinarlo da un punto di vista del diritto di proprietà di una non una limitazione del diritto di proprietà ma una sua valorizzazione del diritto di proprietà che è un terreno che ospita una cultura tipica e quindi sostanzialmente avente un carattere pubblicistico al di là del valore privatistico quindi se noi non interveniamo con una determinazione di questo tipo le nostre dichiarazioni saranno solenti non avranno significato e piangeremo ancora di più il San Marzano nelle mani dei Lombardi dei Venti degli Emiliani avrebbe dato dei risultati diversi allora noi dobbiamo avere la possibilità di guardare dal futuro attenzione però senza vergognarci di quello che delle possibilità che abbiamo perso ma puntando su questo momento di riscatto economico e sociale che io ti tengo importante grazie per lo scopo no ma non lo so con legale questo intervento con legale questo intervento non vediamo il dottore Culleri a quello che stamattina tu non c'hai che non hai sentito questa cosa qualcuno ci ha invitato a fare e io mi permetto di dire al Presidente del Contorso che questa è la futura battaglia dell'Urbani cioè il riconoscimento di paesaggio culturale dei territori della DOP se noi riusciamo cosa che fanno con il vino con i territori del vino ad avere il riconoscimento di paesaggio culturale per i 41 comuni della DOP il paesaggio culturale ti dà alte possibilità ti dà la possibilità di promuovere anche attraverso la cultura e il prodotto anche attraverso l'accoglienza e il prodotto ti dà un altro viatico che è molto più importante di quello che abbiamo oggi non è la solita riconoscenza di patrimonio dell'UNESCO per capirci che è una cosa importantissima ma il paesaggio culturale ti dà la possibilità di partecipare insieme con gli agricoltori a delle progettazioni molto più importanti che possono creare per i nostri figli e per i nostri figli delle opportunità diverse che mettono insieme l'agricoltura e la nostra potenzialità territoriale questa quindi è una cosa che noi dobbiamo annotare fortemente perché è la stessa in poi linea con quello che diceva lui cioè valorizziamo questa terra perché sono più occupato a muller Enrico stamattina abbiamo avuto l'invito ad essere sinergici tra le donne tu pensi che sia pronto con la tua voce buonasera stasera siamo a una celebrazione di un anniversario quindi sono i 20 anni di un marchio d'opera quindi stiamo portando alla luce soltanto tantissimi aspetti che una chiave quasi di celebrazione però il problema dei prodotti tipici del territorio che poi sono la nostra forza vanno esaminati e la loro singularità e la dottoressa mi parlava dell'aspetto semichiero della selezione genetica io sono provenio dalla mia semichiera quindi conosco bene il problema io conoscevo quintali i semi pomodori a San Marzano mi ricordo quando andavo nelle zone di San Marzano in San Valentino e vedevo il vero San Marzano quello che era alto 3 metri quindi dove effettivamente mi è piaciuto un'espressione dell'ottoressa cittadino il muro rosso e che era un muro rosso quindi gli aspetti si parte dalla selezione genetica si parte poi sotto con l'aspetto della produzione un'altra testimonianza importante era detto il testimonio produttore che ci dovete pagare di più il prodotto si parte di più quando si riesce a qualificarlo quando si riesce a dargli un valore le persone non dobbiamo aspettare che ci siano le sovvenzioni pubbliche perché anche dirò una cosa poco piacevole anche lo stesso marcio dopo da noi l'America ci viene contestato perché la denominazione di unice reprotetto come altri margine di tutela vengono interpretati dai nostri concorrenti competitori oltre a se come una forma di sovvenzione che si dà delle produzioni locali quindi fin quando questo ci è consentito pervengono gli accompagnamenti diciamo della struttura politica però dobbiamo essere capaci noi di riuscire a dare qualità e valore al nostro prodotto il San Marzano nel mondo è unico è unico lascia stare che ci siano anche le imitazioni però il San Marzano è unico e rappresenta un territorio come noi abbiamo fatto oltre che il Sipollot ci sono 4 richieste nel tipo giusannese abbiamo fatto la richiesta del pomodoro portatino e sono tutti per essere nel ministero abbiamo fatto ancora l'unico fiore d'oppo d'Europa l'abbiamo chiesto noi la galla bianca vede il bufè e tutto questo sta fermo lì ok adesso per ritornare all'argomento chiave nostra quindi un'altra cosa del territorio quando qualche anno fa tutti intervenivano dicendo l'infinamento dell'area San Marzano io sono stato presso la sede dell'UNESCO a chiedere il riconoscimento di come diciamo territorio serato dall'UNESCO oppure non mi fu detto di no la cosa è che è possibile noi come consorzio anche se abbiamo un momento diciamo di crescita fisiologica perché lo stesso consorzio di Cipodotto non è che sia diciamo sostenuto dai diretti interessati come dovrebbe essere siamo sicuramente disponibili per quello che posso rappresentare è ostricabile poi ci fare rete è fondamentale quindi sia per quello che riguarda pomodoro come riguarda il Cipodotto come riguarda tantissime altre tipicità del nostro territorio che sono uniche proprio per le condizioni pedoplimatiche che la dottoressa prima ha menzionato noi abbiamo delle condizioni uniche che si offrono i prodotti unici dobbiamo essere noi capaci di dare qualità e valore ai nostri prodotti grazie voi avete sentito delle frasi diciamo più o meno non pertinenti non impertinenti non pertinenti al tema quindi torniamo al tema e io vi devo confessare subito una cosa che durante la conversazione questi momenti diciamo prima di introduzione e poi di cucitura tra un intervento e l'altro curati molto sapientemente da Pasquale e da Munzi a un certo momento avrete sentito come me la parola frac dobbiamo indossare il frac e io mi sono sforzato lo dico in presenza di sua moglie di immaginare Pasquale in frac però non non mi riesce se non se non pensando a questa abilità particolare che ha espresso stasera di fare da Anchorman non salvo che per l'introduzione del mio intervento per il resto va tutto bene allora devo prendere un pezzetto di storia però insomma posso miscelare l'una e l'altra cosa questa storia bella comune naturalmente non è una storia individuale io non sono mai per le storie individuali io sono per le storie collettive quelle storie che mettono insieme intelligenze saperi risorse e che attivano al territorio la forza propulsiva per poter conseguire un obiettivo se dovessi in una sola frase sintetizzare l'esperienza di questo grande riconoscimento che in quegli anni ormai sono 20 riuscimmo a conseguire la sintetizzerei come ho detto una vittoria del territorio perché quel territorio questo territorio in quel tempo riuscì a coalizzarsi riuscì a dare senatore Pinto anche particolare qualità al valore della coesione territoriale e devo dire qui ciò che Pasquale sapeva che avrei detto perché nell'arrivare qui anzi prima che arrivassi nella tarda mattinata di oggi ho avuto una breve telefonata con Andrea annunziata durata 31 minuti perché alla fine ho visto e ho capito perché perché la ragione per cui mi chiamava era di giustificare con enorme ramari con la propria assenza perché per l'appunto allettato dall'influenza e siccome Andrea in genere nelle conversazioni telefoniche essendo sempre molto impegnato è estremamente stringato dalla durata della telefonata ho capito che non stava bene perché siccome era a letto se non stare a letto allora trattengo qualcun'altra però quella telefonata mi è servita anche non soltanto per trasferire a voi il suo rincrescimento addirittura è venuto suo padre all'inizio qui è proprio come il padre che ha giustificato l'assenza del figlio ed è stato un gesto molto affettuoso e amichevole avendo passendoci tra noi rapporti antichi però il merito di Andrea annunziata lo dico in presenza forse il sindaco si è allontanato ma lo saluto in questo momento il sindaco di San Marzano saluto tutti quanti voi saluto i sindaci di ieri e di oggi perché c'è anche il Giofino Corazzieri che è naturalmente espressione di questo territorio dal punto di vista istituzionale lo era all'epoca poi per una vocazione tardiva è diventato appunto un agricoltore a tutto tondo un compilatore e uno scienziato diciamo anche dell'agricoltura per cui noi molte volte attingiamo ai suoi saperi allora che cosa accade vedete che la cronologia ha un senso io ho sentito parlare di un direzione molto puntuale articolata in due pagine e mezzo molto fitte che io ho qui al presidente della provincia di Salerno dottor Alfonso Agne alla giunta provinciale al consiglio provinciale di Salerno che inizia con una descrizione del territorio si trattiene sulle proprietà organolettiche che sono state molto fortunamente descritte da chi di competenza e arriva diciamo ad un elemento particolare che è tutto racchiuso in quella P Pasquale da Cursi anche qui molto acutamente nella introduzione si è soffermato non soltanto sulle prime due lettere della cronico ma anche sulla terza perché il problema era soprattutto in quegli anni questo qui quello della P quello della protezione da attacchi di ogni genere Presidente San Giorgio noi siamo diciamo 20 anni prima che ci occupassimo o 15 se non 20 lo abbiamo fatto nella passata legislatura mentre era in senato come vicepresidente della commissione agricoltura Vittorio San Giorgio oggi presidente provinciale della Contiretti in quel momento era il presidente nazionale dei giovani cordiletti oggi siccome è un anziano e allora è diventato presidente ma non giovane non più tanto giovane ma comunque ancora giovane e allora in quegli anni la problematica del concentrato cinese tutta una serie di situazioni di incursioni diciamo anche dal punto di vista dei mercati di spaccatura diciamo di certi fronti di insidia alla nostra economia agricola era un punto costantemente all'ordine del giorno soprattutto delle commissioni agricolture di Camera e Senato ma anche delle rispettive aure e quindi ovviamente delle organizzazioni professionali di categoria di tutto il mondo agricolo del sindacato insomma dell'impresa grande preoccupazione retrodatate ancora di una quindicina d'anni per arrivare agli anni 96 e così 90, 95, 96 e così potremmo capire quale fosse anche la lungimiranza che in quel momento il territorio esprimeva perché questi fenomeni che poi sono venuti in emersione all'epoca erano molto più striscianti allo stato latente forse per questa stessa ragione più insidiosi ancora tutto ma ne ho inteso di San Marzano io non non vi voglio assolutamente interiare con altre cose che non aggiungerebbero nient'altro diciamo questo ragionamento voglio innanzitutto però portarvi saluti del dottor Tosco che non che era il dirigente del settore in cui io sono incardinata il settore dell'archicoltura che si chiamava settore per la sperimentazione informazione ricerca e consulenza in agricoltura e il nostro compito era appunto quello di supportare io dico che qui siamo dei sindicati siamo a supporto dei cittadini della campagna chiaramente tutti gli operatori per fare in modo che tutto vada poi a confine per la promozione dei territori ma permettetemi di dirvi che secondo me qui forse al mio posto sicuramente dovrebbero esserci gli agricoltori io dico senza senza gli agricoltori che con tenacia hanno continuato a coltivare il pomodoro a Marzano nonostante tutto nonostante la crisi del pomodoro nonostante i motivi che la dottoressa Spigno ben diceva prima di me hanno continuato in terterria a consegnarci questo tesoro diciamo ce l'hanno consegnato e noi diciamo gli abbiamo dato abbiamo fatto in modo che noi abbiamo contribuito con l'iniziativa che abbiamo fatto nel più una regione non so se ci sta ancora un bullezio in sala ma noi siamo stati anche accusati che abbiamo fatto troppo abbiamo fatto troppo per il San Marzano perché è stato un prodotto su cui la regione ha sempre creduto e quindi ha fatto tanto non vi elenco veramente le iniziative le ricerche i campi dimostrativi che sono stati fatti dovrei elencarvi però e me ne scuso con gli agricoltori tutti gli agricoltori fiscali del Vigo sono stati nominati qua alcuni che io in Monda ma pure il papà di Napolitano non so che ci sta ancora c'è il signor Celentano che ho chiamato cioè normalmente qui dovrebbero esserci tutti quegli agricoltori che ci consentirono di raccogliere e mi ricordo raccogliemmo 32 ecotipi nella reale DOC San Marzano che è poi diventato della DOC San Marzano facemmo fare delle prove in campo perché allora sapete che gli ecotipi sono l'uno diverso da gli altri sono ogni azienda deve avere il suo ecotipo e noi per fare un disciplinario dovevamo descriverlo il suo ecotipo e allora raccogliemmo su tutto il territorio 32 33 ecotipi mettendoli a confronto con delle varietà che erano già istritti nei registri nazionali che si chiamavano San Marzano 2 San Marzano 3 San Marzano gigante Bulleri che ora non mi sente perché lui non si è mentire a loro mi pare che ci stava pure di qualche varietà e noi mettevamo a confronto tutti questi ecotipi con queste varietà già iscritte che dovevamo farne una descrizione che poi consentisse al ministero di portarla a buon fine diciamo e lo facevamo e fu veramente un'esperienza vi dico veramente bellissima ma non per ma vi dico è stata bellissima perché sono stati gli agricoltori vedevano una cosa che loro avevano portato per anni e avevano cercato di rimasenere come un tesoro c'erano alcuni che li tenevano conservati nella vecchia calza veramente come un tesoro e noi e noi quel tesoro vorrei rassicurarvi questi agricoltori noi lo abbiamo conservato tutto noi questo tesoro è vero che si usano solo due cotipi per disciplinare vuoi sapere che si utilizzano due varietà l'una si chiama San Marzano 2 e l'altra si chiama Tiro però noi abbiamo conservato tutti gli ecotipi che ci hanno i nomi a fianco di ciascun agricoltore che ce l'ha consegnato allora e questi ecotipi sono conservati in una banca del germoplasma che noi teniamo che è pubblica è regionale e quindi è messa a disposizione anche della ricerca stamane vi chiedo scusa che non si potrebbe essere presente mi avrebbe fatto piacere essere presente stamane ma sicuramente i ricercatori avranno parlato come lo diceva anche Bulleri o come è stato detto anche da qualcun altro stasera che si può migliorare lo diceva anche l'agricoltore che si può migliorare il San Marzano ci sono delle bene noi abbiamo un tesoro un patrimonio conservato comunque per le future generazioni per noi stessi affinché possa anche essere utilizzato magari anche il programma di futuro miglioramento se c'è qualche elemento che può essere considerato utile non per questo è so che apro una porta che ne ho come oreggia me noi vogliamo pensare credere che la Continenti soprattutto quella di Salerno per quella che la presenta è amica del prodotto del territorio e di tutto il consorzio con i stori e i trasformatori questa dichiarazione di amicizia colvenzione di benessere di bene colvettivo vorrei che arrivi da te stasera e se tu la fai ricordati è come spingere una mano ad una persona io credo è una settimana beh vai innanzitutto grazie grazie a Tommaso e al consorzio per l'invito Pasquale è molto fine nella dialettica quindi arriverò alla fine rispetto a quello che mi chiedeva però c'è anche una mutazione di fondo e io a settore di quest'anno in contemporaneo di un'iniziativa anche a Salerno per cui anche Pasquale è venuto con la presenza dell'ex procuratore Caseri che oggi è a capo del nostro osservatorio sulle agromache avevamo portato a Salerno questa iniziativa appunto sul falso Medinitali e il giorno prima Uglan aveva fatto quella bellissima dichiarazione che ci aveva spaventato in maniera straordinaria perché che lo dica un operatore belga potrebbe avere un senso ma che lo dica il commissario dell'agricoltura ha preoccupato l'intera Italia perché oggi è il San Marzano domani potrebbe essere un'altra storia e dunque io feci una battuta in quell'intervento e così mi riallaccio anche alle bellissime cose che ho sentito da tutti i grandi sostenitori e tifosi del San Marzano in quella battuta in quell'iniziativa che facemmo noi ci siamo permessi di dire una cosa però se fossimo stati in Francia ci sarebbe stato una scossa di carattere nazionale in termini identitari che la Francia avrebbe fatto una rivoluzione perché se per assurdo qualcuno gli avesse toccato lo champagne sarebbero andati da ove e gli avrebbero detto di mettere e quindi partire la mobilitazione non uccidiamo il San Marzano per cui stasera ringrazio il sindaco qui ma tutti i sindaci dei 41 comuni che hanno deliberato tutti a sostegno con un sostegno quindi di carattere istituzionale per comunicare allo stesso che il San Marzano è un qualcosa di questo territorio che non può essere appannaggio di un meccanismo di carattere internazionale perché abbiamo fatto questa iniziativa perché come dire come organizzazione ci siamo resi conto di una cosa e non a caso la deglassificazione i tentativi di deglassificazione sul marchio di tutte queste diverse dinamiche il San Marzano e lo voglio dire non voglio parlare né da agricoltore non voglio parlare né all'industriale il San Marzano lo voglio dire ai giovani che questa sera qui sono presenti e per certi aspetti devono riacquisire quel senso identitario che per qualche generazione forse abbiamo perso non vuole essere una critica a qualche generazione ma dobbiamo riapprovarci del senso italico il San Marzano il più bel racconto che questa terra è riuscita a descrivere in un'era a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 90 in cui l'agricoltura era un settore residuale del sistema paese quindi qualsiasi valore si faceva nell'agricoltura perché l'agricoltura non faceva parte degli asset economici del paese il paese aveva fatto una scelta doveva puntare sull'idustria pesante e l'idustria pesante non era l'agricoltura e quindi in quella era lì si era puntata sull'edilizia l'agro da questo punto di vista con una pianificazione urbanistica improvvisata riesce ad essere un emblema una dimostrazione plastica su queste dinamiche è ovvio che il San Marzano testimonia invece che può essere la più grande occasione di riscatto di immagini di un territorio che se io dovessi trasferirla a mio figlio e dovessi dire ma fra vent'anni cosa ti immagini per l'agro lo Ceno Sardese io mi immagino una bellissima terra dove tutti insieme e quindi parlo di più generazioni riescono a vincere quella scommessa che qui questo prodotto diventa il simbolo di un territorio il simbolo di una provincia il simbolo dell'Italia che per certi aspetti già lo è Pasquale fa anche export e sa che sui mercati americani non esiste il pomodoro esiste la stessa ammazzanza in termini di posizionamento del prodotto e allora vado anche sulla riflessione sulla provocazione che faceva e vi dico una cosa questa sera ci sono due industriali che sono soci di Coldiretti uno è uscito fuori che è Peppe Napolitano e l'altro è Pasquale Dacuzzi quindi di fatto il patto fra Coldiretti e la trasformazione è già stato siglato non a caso ieri in incontro romano ci siamo permessi di promuovere una bellissima una bellissima cosa che è già stata sottoscritta in termini di impegno alla presenza di un tavolo che abbiamo fatto in quest'estate alla presenza del consigliere delegato all'agricoltura un contratto di filiera per il San Marzano un contratto di filiera 100% sul prodotto San Marzano un contratto di filiera che impegna tutti perché il San Marzano è l'unico pomodoro su cui possiamo fare un contratto di filiera 100% e promuovere quell'industria che di cui Pasquale ne ha una testimonianza insieme agli altri amici che sono qui vedo anche una parte della mia famiglia che è una San Marzano quindi dalla parte di mia moglie pertanto con grande orgoglio se dovessi dire ai miei cugini cominciate ad investire vogliono ampliare gli stabilimenti lo possono fare perché ci stiamo impegnando un po' tutti sulla filiera istituzionale per esaltare questo prodotto però vengo alla parte agricola la parte agricola è stata bellissima la testimonianza di Cedentano quindi gli chiedevi facciamo il patto e i patti come dire se gli stringiamo la mano è vicendevole e non voglio fare una questione di carattere economico perché il contratto di filiera è un contratto serio ed è un contratto che permette anche all'industria di poter pianificare perché stiamo parlando di un contratto blu-nergato blu-nergato non annuale e sui contratti blu-nergati possiamo stringerli a collo con la grande distribuzione possiamo stringere gli accordi con gli esportatori perché riusciamo a pianificare bene rispetto anche alla quantità e quindi su questa dinamica è ovvio che se riusciamo poi dall'altro lato in questo contratto riusciamo a garantire i costi di produzione oggi quelli attuali che sostiene chi fa San Marzano in campo allora su questa cosa io credo che possiamo riscrivere una bellissima pagina di questo territorio perché è bello il racconto rievocativo concedetelo io sono un amante anche della comunicazione quella un po' più appassionata il messaggio dell'agricoltura del nonno fino a un certo punto però l'agricoltura degli ultimi dieci anni è quella si è trasformata perché c'è stata una componente generazionale di tantissimi giovani che all'indomani del paro della legge di orientamento che la mia organizzazione ha promosso e che di fatto ha ampliato la possibilità per fare l'agricoltura c'è stato un ritorno generazionale dell'agricoltura e quindi grazie a questo oggi riusciamo nel mezzogiorno ad avere un PIL agricolo che è PIL equiparabile a quello cinese perché l'agricoltura ce lo dice l'ISTAT un PIL che fa il 7% nel mezzogiorno non è un PIL europeo è il PIL che fa la Cina perché la Cina cresce con performance del 7% all'anno è l'agricoltura e allora chiudo con questa battuta caro Pasquale noi grazie a questo siamo riusciti a fare il massimo perché il governo finalmente ha riconosciuto il valore sociale del nostro settore quando il governo Nezzi decide di togliere le tasse per l'agricoltura sta riconoscendo il valore sociale agli agricoltori perché producono un bene primario con il cibo e in tutto il territorio questo è il motivo che lui è stato saluto dalla storia di agricoltura però vi dico non basta nel senso che noi vorremmo anche pagarle le tasse ma le tasse si riescono a pagare se nella filiera si riescono a spalmare in maniera corretta le marginalità e con questa stretta di mano credo che anche in questa bellissima parte della nostra provincia che come dici tu è la leva è la spinta è la locomotiva dell'economia della provincia di Sarenno possiamo riscrivere una bella pagina ma devono scrivere i giorni non lo può scrivere la generazione di Pasquale da Dolisi decennio quando ci sono incultimati lui diceva nella non proliferazione delle cellule tumorali ed è una cosa straordinaria preparatevi a qualche cosa di straordinario preparatevi a pensare che tutti chiameranno col nome San Marzano una qualsiasi cosa perché ci sarà un'esplosione che voi non avete idea perché adesso io non vi posso dire ha detto Sindaco anzi ti chiedo di venire qua sì il risultato della ricerca perché non lo posso dire prima di pubblicarlo sui documenti è la rivista scientifica ma ti posso in anteprima dire e ha fatto vedere un schermo sulle persone quale sarà l'effetto che avrà questo sul piano scientifico poi vi annuncio Girodangelo mi ricordo per questa cosa poi vi annuncio pure che questo è l'effetto della ricerca però di certo io da professionista da ricercatore sconvento che questa cosa avrà un risultato ancora più forte sarà ancora più di leopente per gli effetti benefici alle coronarie al cardiace e per il diabete che sono i mali che voi oggi non pensate ma sono molto molto importanti poco perché ci hanno sostenuto ma spero sia la prima di tante altre assolutamente grazie grazie a Tommaso che è una persona eccezionale e consorzio tutti non andate via perché dopo c'è l'altro di porto dopo tanta scienza e sapere e scuola ci sarà l'automobile a sola grazie Luzia per tutto quello che hai fatto per tutto la professione di ammiglia di spiegare e di spiegare di ammiglia adesso il sindaco che ovviamente di nuovo di nuovo buonasera buonasera a tutti voglio dire poco mica è facile dopo aver sentito così illustri personaggi che hanno trattato in modo come dire quasi scientifico certosino l'argomento a portare il contributo mi limiterò a concludere in un modo molto molto veloce innanzitutto ringraziando che ha voluto fortemente questo e ringraziando uno ad uno chi da stamattina è intervenuto a questo tavolo io credo che San Marzano questa sera ha scritto una pagina di orgoglio nella sua storia per aver avuto la possibilità di ospitare così tante personalità ma giusto per un inciso finale io ho ascoltato con attenzione per quel tempo che sono potuto stare qua stamattina e oggi ecco sono stati cembrati tanti di quei problemi mi sembra però che il problema più importante forse la problematica che ha portato a quella fase di stasi di fermo a cui faceva il cenno Vittorio Porrofano di una generazione che magari è stata ferma in questo settore si è legato soprattutto forse alla mancata giusta remunerazione del soggetto produttore lasciatemi dire io conosco un po' la storia del settore abitio essendo figlio di agricoltore ricordo senatore che il pomodoro fresco San Marzano destinato al mercato fresco 25-30 anni fa si vendeva a quelle famose 700.000 600.000 prezzi voglio dire oggi inesistenti per la stessa produzione e per forse 10 volte tanto i costi di produzione una giornata di mano d'opera costava 15.000 20.000 oggi costa 70 euro 80 euro e allora quando perché poi giusto è verificare anche l'aspetto industriale nessun imprenditore lavora se non crea prestito se non crea profitto allora chiediamo all'industria una maggiore attenzione una maggiore attenzione benvenga benvenga all'iniziativa che citavo poco fa Vittorio portarsi che quello sia lo strumento giusto dopo tanti anni di lavoro di sacrificio messo in campo per far sì che questo prodotto di eccellenza è giusto perché non potremo diventare perché poi sulla carta lo siamo già lo siamo già dovremmo essere solo di farmi come il parmigiano come il santaniera come il crociutto di farma forse sulla carta siamo ancora più famosi più importanti manca la materiale allora incentiviamo chi io dico partiamo dall'inizio incentiviamo chi produce la materiale quello deve essere l'obiettivo l'obiettivo principale e mi avvio a una veloce chiusura è l'arte forse più nobile quella di produrre un qualcosa e chi produce il San Marzano ha la nobiltà e se lo farà in un modo più importante e più profigua credo che abbiamo e raggiungeremo un risultato enorme non solo per la nostra per la nostra comunità per le nostre terre ma soprattutto per il recupero della nostra italiana e allora concludo con una citazione che non è mia io dico chi ha la capacità di agire ha anche il dovere di agire grazie buon Natale un saluto conclusivo al presidente Tommaso Romano a cui voglio dare il nome di tutto il consiglio di tutti i produttori il più vivo ringraziamento per l'impegno che lui sta svolgendo sapendo e anche a Fabrizio e Giauto perché ci dà una si importa dicendoli che come abbiamo fatto fino ad oggi continueremo a fare a star di vicino sapendo che sei un uomo libero forte e che quando hai bisogno puoi chiamarci ma sappiamo che non non abbiamo né titolo né la presunzione di poter mai condizionare il tuo operato e il tuo lavoro quotidiano questo io ci tenevo a dirlo pubblicamente perché a nome di tutto il consiglio perché noi ci siamo veramente vicini prima di dare la parola a te volevo anche salutare il presidente di una organizzazione importante Italia Ortofrutto scusa Genaro Velardi che per me è stato anche una persona che ha vissuto quel momento insieme allora all'AOA dico bene esatto insieme all'AOA esatto c'era anche la Popa c'era anche l'Ica l'Ica di Nola mi ricordo queste associazioni che non so se ci sono più l'Ica non credo ci sia più ma c'è ancora Peppino Greco che oggi è il dottore che è colposo c'era il dottor batte con di Apoch brava brava tutte queste persone saluto anche il dottore Mimo Giuliani dell'Amica che è venuto a darci il suo dell'associazione nazionale dei produttori tutti gli altri amministratori tutti quanti voi con una frase che mi piace dire dando la parola a loro un grande poeta cileno Paolo Neruda chiamava i comodori in questo modo le stelle del cielo che si assicurano la festa di un colore ardente ed una peschezza che abbraccia tutti noi così dovremmo essere come Paolo Neruda diceva quindi parola a Contesia di Nola è una giornata particolare unita ringraziare secondo me non passa ringraziamento di che cosa è stata fatta per questi 20 anni per il pomodoro sannanzato molti di voi stamattina non erano per esempio diciamo c'è stato un momento di dialoghi molto molto intensi e anche molto costantivi da chi difendiva il territorio da chi difendiva la verità da alcune problematiche diciamo che le problematiche vanno affrontate vanno risolte noi da oggi da domani quando dovremo lavorare lo abbiamo sempre fatto lavorare perché abbiamo dei punti da raggiungere innanzitutto per avere vita come ha detto Pasquale con loro sono una famiglia una famiglia di 33 persone 19 parte giustrale e 14 come è di grande dove ognuno di noi ha un suo modo diverso ma stiamo raggiungendo un sistema democratico di affrontare i problemi dove c'è si sta piano di abbracciando alla distinzione quanto anni fa sentivo che non sono iniziale nel consorzio si doveva dire il miglio è vero San Mazzano forse ultimamente non so più se esiste il San Mazzano infatti non esiste il vero e il falso la filiera del San Mazzano l'ho detto già stamattina scusate mi si mi dico ma è soprattutto dei contadini degli operari noi siamo solo dei gestori del loro lavoro a questo dobbiamo ringraziare queste persone che sapientemente fanno il loro lavoro con coscienza senza dubbio uno dei punti principali è la ricerca perché non possiamo stare applicare a subo ai ricordi dobbiamo migliorare abbiamo l'abbiamo l'abbiamo miglioramento cinetico da adesso come già proposto all'interno del consiglio e sarà oggetto anche alla prossima assemblea dobbiamo avere bisogno di un'assistenza economica all'interno del consorzio perché la qualità del prodotto è un bene per tutti è un bene per tutti e un bene per le industrie ma soprattutto è un bene per i consumatori noi non possiamo metterci e dimenticare certi problematiche che sono state affondate che sono state affondate mani nel passato la presenza di alcuni prodotti tipi hanno rovinato la nostra produzione di San Marzano nel passato ma ormai fa parte della storia ormai dobbiamo guardare l'ambito dobbiamo cercare la pagina e guardare la pagina uno dei punti principali che mi ha fatto molto piacere l'Ana che l'ha citato Vittorio San Giorgio il problema dei giovani noi probabilmente a vent'anni molti di noi siamo avanti molti anni ma sicuramente dobbiamo creare un sistema di creare il reddito per i giovani dobbiamo incontrare loro la volontà di intervenire questa attività un'attività che non è discriminatoria non è molto molto discriminata l'attività veramente bisogna essere l'onorato di stare in questa filiera non voglio andare oltre perché siamo stati da stamattina siamo continuamente abbiamo affrontato tutti i problemi ma secondo me il problema principale è quello di continuare questo discorso che abbiamo fatto stamattina non una sola volta all'anno ma continuare infatti ho lanciato stamattina l'idea di far nascere una comunità tecnico-scientifico e istituzionale della roba di tutta la realtà per la valorizzazione territoriale coltiva e soprattutto per una sicurezza alimentare finché questo riusciremo a fare sicuramente avremo creato qualcosa di buono per la sua grazie a lui grazie a lui noi abbiamo questa grazie a lui incontro in conto questo nostro convegno naturalmente nella individuazione delle riconoscenze che egli ha ritenuto di testimoniare ha voluto con generosità con simpatia e soprattutto nello stile che è un po' con il suo distintivo e ha voluto anche fare riferimento all'attività che io ho svolto al ruolo che in quel momento 20 anni fa fui chiamato ad assolvere in materia di agricoltura e l'ha citato da ultimo passando la parola non ha mai rinunciato a creare gli anelli che congiungessero i vari interventi che ci sono svolte faccio riferimento all'intervento che il professore Giordano ha avvolto stamane e di cui significato dal punto di vista scientifico umano medico è di tale valore di tale significato prospettiva di tanto sviluppo che a mio avviso va diffuso questo suo scontenuto del suo intervento anche per le opportune verifiche dal punto di vista scientifico e perché ciascuno possa sentirsi destinatario di un dovere di concorrere a realizzare l'aspirazione fondamentale dell'uomo al di là di tanta sete di giustizia che è quella soprattutto di avere al proprio apporto e della propria famiglia la salute e il nutrimento che sia razionale e rispetto quindi io direi tra le tante iniziative che sono forse collegate a questo incontro e a questo avvenimento a questo accadimento ci sarà anche quello di divulgare i contenuti del convegno di stamattina ovviamente non soltanto quello del professore Giordano ma quello che potrà avere maggiore ego maggiore attenzione riscuotere maggiore ascolta da tutti coloro che hanno a cuore l'interesse del futuro proprio e delle proprie generazioni io voglio citare molto brevemente un'altra ricerca che è stata fatta oltre quella del professore Giordano ma non sul piano medico né sul piano agricolo studiosi di altissimo valore universitari hanno di recendere assegnato la conclusione della loro ricerca che è quella dei convegni che si vanno sempre più divulgando raddoppiando moltiplicando e il cuore delle idagini era quanto dura l'attenzione di un uditorio ma quello che ci onora della propria attenzione quanto dura e la risposta era non oltre 40 minuti naturalmente non è che si spegna l'attenzione alla 41esimo minuto ma comincia a deflettere a diminuire ad assentarsi fino a quando poi c'è la cosiddetta crisi di ricerca cioè si può parlare anche per ore intere ma non si ascolta e soprattutto cerca addirittura di allontanare la propria attenzione essendo giù la saturazione di tutto cosa che si poteva apprendere ho citato questo episodio per introdurre un impegno più assuro di essere assoluta per evitare perché oltre alla mattinata che ha portato all'attenzione di interventi di alto valore scientifico e umano le tre ore che abbiamo trascorsi insieme e che per me rappresenta che io non devo dare diplomi a nessuno ma dare altro della validità di una iniziativa come questa e beh tre ore avrebbero dovuto determinare la stanchezza dell'uditorio ed invece io vedo che l'attenzione non solo rimane ma addirittura si rinnova il che è la prova la testimonianza e la dimostrazione del vivo interesse che ciascuno di voi porta a questo problema e alle sue prospettive perché questo problema appassiona tanto non tanto e non solo dal punto di vista economico che pure rilevano non soltanto quello della nutrizione della conformità ai canoni fondamentali della limpidezza del prodotto ma io credo che questo ha anche un refrotello che ci impegna e che deve essere proiettato per il futuro e che è la sintesi di quello che questa serie avremo io posso dire per la lunghezza della mia esperienza umana politica e professionale che è difficile poter realizzare e qui non sono soltanto dicitore di una impressione personale ma addirittura recono la testimonianza che ho vissuto e non sulla mia epidermide di quando è stato possibile realizzare in questo prodotto e in questo io ringrazio tutti coloro quasi tutti lo hanno fatto e per me è motivo di particolare onore la citazione che ritengo estremamente sincera ed affettuosa ma io credo che debba restituire a coloro che sono autentici costruttori di questo accadimento eccezionale il merito nel suo verificarsi io mi sono trovato in una posizione autenticamente fortunata e sarebbe certamente imperdonabile e presuntuoso poterissare proprio vessirlo e dire io ho portato no io ho trovato quando nel 1996 senza cedro forse l'unico caso in Italia e nel mondo io stavo svolgendo il mio impegno professionale in un piccolo tribunale ahimè da qualche anno soppresso il tribunale di Sala Puntilino è stata svolgendo la mia funzione di avvocato quando alle 13 e 15 un amico che si fece spazio nella sala affollato come questa per ascoltare il procedimento gridò Ministro Pinto Ministro Pinto il Presidente lo rimproverò dicendo lei disturba l'udienza e questo proprio l'amico disse ma io sono qui soltanto non per disturbarla ma per dare gli auguri dall'avvocato Pinto il quale è stato nominato Ministro come ho appreso dal telegiornale delle 13 e 15 fu sto spesso in un'idea attivare il cellulare che doverosamente si spegne nelle occasioni nelle quali il silenzio si impone telefonare al Presidente Prodi e poi al Presidente della Repubblica che mi aveva con gesto di nominarmi Ministro senza che io lo chiedesse senza che lo attendesse ed iniziare allora il mio lavoro ed il mio impegno e poiché dobbiamo regare questa testimonianza voglio dire che una delle prime telefonate che io ho ricevuto perché poi ci fu una coincidenza molto felice ecco molti fatti non sono attribuiti al merito di chi li enuncia di chi è destinatario protagonista ma c'è un intreccio di situazioni favorevoli che concorrono a realizzare quello che nessuno sogna nessuno pensa e probabilmente forse nessuno vorrebbe capitò la mia nomina il 19 maggio del 1996 quando il giorno stesso del giuramento dovetti poi il giorno dopo raggiungere Bruxelles perché era l'ultimo mese del semestre di presidenza italiana e io dovetti quindi presiedere il contiglio dei ministri dell'agricoltura d'Europa raccogliendo soltanto la lunghezza della mia esperienza politica cercando di leggere l'impegno che mi era stato così particolarmente delicato che mi era stato affidato una delle primissime telefonate che ricevetti una di queste fu quella per il tramite dell'ambasciatore d'Italia a Bruxelles di Pasquale D'Aconse il quale salutando e congratulandosi per questa nomina si sa quanti problemi vi troverete a risolvere io ve ne pongo uno ma non a titolo personale come segno di un'amicizia mai interrotta anzi nel tempo cresciuto ed arricchita il problema del pomodoro San Marzano e disse ma mi vuoi fare entrare almeno nel ministero per rendermi conto e lui mi disse non c'è bisogno perché voi in tanti anni l'impegno anche politico nel quale siete stato condizionato dall'affetto dalla bontà dalla considerazione di tutti certamente questo problema non c'è io non chiedo né per me né per il controcchio che sono chiamato a presiedere ma per una terra che io so che amate moltissimo e dalla quale avete il dovere di restituire il consenso la simpatia e l'affetto che questa gente vi ha manifestato mancò forse qualche ora e arrivo alla seconda tra le tantissime telefonate quella di di Gennaro Cosmino il quale pure lui congratulandosi disse a me vi troverete nella condizione di avere migliaia di ricerzi e non so come vi orienterete nel creare una gerarchia di valori e di importanza io vi cedo soltanto questo guai se voi non rispondete a queste esigenze e a queste domande se le ritenete giuste perché averle realizzate vi porterà un medico di serenità di coscienza ma la negazione di una attesa giusta e profondamente avvertita dalla nostra popolazione vi porterà un'amarezza nella vita dalla quale non varrà a pentirvi è necessario invece che voi rispondiate perché oggi avete questa possibilità io vi auguro disse lui tantissima fortuna e tanto impegno in futuro ma oggi è un'occasione nella quale il sì che pretendiamo con cittadini e con gli amici non può essere ulteriormente riferita e così nacque la mia approfondimento su questo problema perché si è reso possibile questo è un concetto poi terminerò perché se no finirò con la tradire l'attenzione e cortezze che mi mostrate ancora offrite di tradire l'impegno dell'impegno della verità perché questo perché io credo che ciascuno di noi è chiamato in determinati momenti a svolgere ruoli funzioni attese che poi connotano il modo di distinguersi e di esprimersi di ogni cittadino nell'esercizio di una pubblica di una pubblica funzione qui si è realizzato un autentico miracolo io voglio chiamarlo così ma non per l'utilizzazione di un termine che raccoglie spiritualmente le speranze sottintesse di ciascuno di loro qui si è realizzato un miracolo che è difficile lasciatelo dire a qui ha tanti anni di vita e tanti anni di impegno politico e non ha dotato io non ho mai visto nella proposizione di una istanza nella formulazione di un'attesa tanta concordia tra soggetti differenti e talvolta teoricamente ostili o comunque autonica perché non ho mai visto all'interno per esempio di un registro un consenso così generalizzato su questa pratica che non è che era solo di un partito io potei rivendicare il partito nel quale ho militato per tanti anni un successo dovuto non ho mai trovato una sola parola una sola sillaba da parte di chiunque rappresentava un concetto politico diverso dal mio mai un assaforo mai una diffidenza mai una gelosia mai un'invidia mai un freno e mai un diniero se è così allora questo è il primo miracolo perché siete riusciti la parte agricola la parte industriale la parte politica la rappresentanza degli enti locali quando mai lasciatelo dire a me quando mai io ho cinque legislatori sono stato per cinque legislatori senatore per altre tante tra consigliere comunale provinciale e regionale non ho mai visto tanta convergenza di intenti e tanta capacità di distinguersi dal punto di vista politico ma uniformarsi invece nella realizzazione di cose estremamente positive ma io non voglio guardare soltanto al passato e ringraziare anche di questo fortissimo invito e sottolineare appunto l'impegno corale di quanti istituzioni associazioni enti hanno prodotto io vorrei dare a me stesso e soprattutto a voi alla classe politica dirigente agli enti locali ad ogni livello e se è possibile anche alle forze politiche e sindacali un invito che vorrei chiamarlo addirittura monito nel senso di comprendere che se lasciamo perdere questa occasione è inutile una lamentazione improduttiva e silente che non ha mai prodotto nulla se non l'intezza nel procedere e soprattutto l'amarezza nel conseguire un risultato questa testimonianza del comodoro San Martà del lago Noggerino San Sanese non dimentichiamo esattamente questa seconda parte che invece un concetto del quale questa sera ho sentito giustamente il costante diciamo legare un prodotto al suo territorio che ne è la espressione cioè non c'è bisogno di filmare non c'è bisogno di fotografare è in sé nella stessa parola il concetto che questo prodotto è legato alla terra che lo esprime di cui dobbiamo sentirci tutti quanti assolutamente religiosi ecco qual è allora la mia considerazione noi viviamo un momento grande di difficoltà noi viviamo nell'ambito della nostra regione della provincia siamo incontentiti del paese dell'Europa ed oltre ma credo che se dinanzi a questi fenomeni noi ci intristiamo e ci pieghiamo come il manico di un bastone su noi stessi noi abbiamo segnato anche una forma melancolica e triste ma per non la produttiva dobbiamo invece avere profonda fiducia e questi esempi devono essere magistrali pedagogici istruttivi per ciascuno di noi ricordando il mondo che pochi minuti fa vi accennavo guai a non fare oggi il nostro dovere e lasciare invece la responsabilità di quanto accade di negativo speriamo mai nei copronti dei nostri figli i quali non ci perdoneranno e anzi accuseranno la nostra indolenza la nostra disattenzione il nostro interesse privato fuori dell'azione comune risponderanno anche loro con grande tristezza ma soprattutto con grande capacità invece noi ci auguriamo questo di futuro e allora io ringraziando un poco tutti e sottolineando il valore non soltanto simbolico e testimoniale di questo incontro voglio assicurare nei limiti in cui posso ma proprio vedere il legame a questa terra sottolineare questa capacità miracolosa che ho definito di incontro e di convergenza che è l'unica leva che eliminando ogni conflittualità vera o supposta può consentire a questa terra di rimanere all'altezza del suo ricordo una sola parola non più di 20 secondi ancora sul concetto qualità e soprattutto quantità vedete io in questo momento difficile proprio nel depimento del mio dovere di ministro quando ve lo ricorderete ci si trattava un esempio tra i cambi il problema del riquotero dell'alte che fu un problema di grandissima difficoltà di cui c'era un'ostilità diffusa c'era il contiglio politico del contrasto ma c'era anche una serie di interessi che venivano mal considerate ebbene cosa avveniva in quel periodo che ciascuno si domandava perché io non posso produrre quello che è possibile fare invece debba subire la limitazione di quote con l'ingresso di quote di dilatte che vengono da altri paesi la risposta fu quella di dire forse un giorno verrà e poi venne in cui le quote corrono eliminate ma oggi c'è una sola speranza da parte nostra non è tanto io direi la quantità che pure va tutelata va diffusa se ci sono le condizioni e i presupposti ma quel che conta invece è conservare ed è anche l'effetto per quel che ho compreso del convegno di stamattina la conclusione del convegno di stamattina non soltanto mantenere la qualità e tenere fede ad un disciplinare che rigorosamente ha consentito la realizzazione di questo risultato ma andare addirittura anche al di là e se vi è la possibilità del miglioramento che a mio avviso è inarrestabile guai a chi si accontenta dello stato conseguito immaginando che il domani non può essere migliore io invece sono convinto che l'energia e la sensibilità l'intelligenza l'amore per i propri prodotti la identificazione di una terra nel suo prodotto siano anche il modo per poter guardare a futuro con maggiore serenità e maggiore speranza e trasformare questi due elementi interni anche in una fiducia che certamente non potrà mancare vi ringrazio molto io a noi tutti il contorno e vi ringrazio per questa partecipazione sapete che dopo c'è una piccola degustazione una parte ludica però io stesso avevo chiuso con una frase una poesia di Pablo Neruda però adesso noi chiudiamo senatore io sono molto contento di questo incontro perché credo che dal viso di vostro possiamo dire un po' tutti ci siamo contaminati di questo prodotto san marzano e ci siamo arricchiti di questi belli interventi fatti veramente bene cioè non è solito arricchirsi così alle iniziative ma credo che ci sono stati belli interventi stamattina e anche oggi pomeriggio il finale del senatore Pinto è un dire è un servizio alla comunità è un servizio allo Stato è un servizio alle generazioni apprezziamo questi uomini per quello che hanno fatto per quello che continuano a fare e per come lo fanno perché sono autentici per come li vedete quindi la cosa che a me piace dire è questa perciò sono felice oggi perché è venuta qui una persona che ci ha dato la possibilità e noi lo ricorderemo sempre al di là di quello che il senatore Pinto dice di avere dei suoi momenti di fortuna è stato fortunato di avere questa di darci questa disponibilità e questa possibilità di avere la doppia perché lui mai è stato insofferente ad una chiamata anche quando gliel'ho fatta quel giorno che era un momento di gioia e preoccupazione insieme prendeva un incarico quindi grande gioia perché era ministro all'improvviso ma anche grande onere grande responsabilità e io arrivo con il pomodoro San Marzano dopo capite che cosa significa avere un ministro di Repubblico che sta partendo per andare a Bruxelles che mi chiede questo non lo poteva dire lui ma non lo potrà mai dire non lo dico io e che mi chiede ma io non ho visto neanche ancora una cartella la guarderò in questione e gli dico sì ma non abbiamo tempo perché questo è l'ultimo consiglio quindi voi siete tenuto a portare in discussione questa cosa in questo consiglio e poi se mai a ratificarlo in uno successivo però non abbiamo troppo tempo dobbiamo farlo adesso e la cartella era un po' come questa lui mi disse io lo ricordo perché mi richiamò e mi dice ma Fisher mi ha detto Fisher ma Fisher è il fudente della comunità europea Fisher mi ha detto che la cartella è piccola mai un DOP si presenta così snello perché va bene gli disse tutto quello che avete bisogno e avrà bisogno Fisher ci sarà dopo adesso Fisher ci deve dire di sì e lui disse e io lavorerò per questo perché anche con una cartella piccola stiamo portando avanti una grande battaglia di questo io sono contento allora adesso la signora ben vedete con una poesia alla territorialità scusate ho capito bene ci omaggia di questa poesia non potevamo vivere il meglio perché abbiamo fatto un incontro pro territorialità e anche proprio tutto volevo ringraziare prima la prorogo per questo invito e anche perché parlato del pomodoro non potevano ricordare mio padre che era innamorato di questa coltivazione ma faceva veramente contatto no 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 c'è tal ricordo a propria faceva avere fritto bambini si aggazza la patina tu e i compagni con la patina lo buttava a fare un altro e firmano sempre a casa e qui i servizi lo pranzo a preparare e già prima mattina se ti fai la patina la patina stupata lo faccio tutto piatto da ricordo perciò se proprio ti ammi a casa non è calante tu che è arrivato a casa stupata e te la notte mamma così che viene io che si tiene casa me e non mi dì quando mi andava su ma nava e se che si pia dita grande e insieme con mi piatto ti ricorda lui tirò patrone trasso cavallo e tutti ricorda quanto è il mio tempo si esagoteva si era prevo un bagno e quante notte si mirava gira e quante notte si correva rimane perché rimane tutte ti ricorda ora se c'è un bagno e se vengono a scuola e se vengono a scuola e se vengono a raccogliere e quando la primavera cominciava a sospirare il padre era zappato che l'inizio tirava su ma insieme mi lasciano ma non 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 ti ricorda tu e mamma con questa natura io raccoglavo così chiedi non vengo qui pianto mi raccomando tu chiedi e poi è nemmo che si è in ma tutta dritta una sola se ne avremmo e con fiera lui che si attaccava le cimano ma ti ricorda che la macchina la vendera come pensava e si non lo mandava mai così ci c'è il padre lei era cantabile e quando gli angli abbi si affacciava prima come le 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 tue le le ragazzava quattro per quattro, vigni bellini, dal cuore. Ha scelto dalla stessa sottra e catturato un'occhio, e sembra un cavio fresco, ha inzio, ha caldo, e a spalle si enfocavano. Poi escevano per la freschezza, a barra, a statele, a cuore, a buon bis, e si guardavano. E ancora si è cominciato. Una settimana avevamo riuscito, che era qua troppo vicino, dal cuore. Per bottiglia e pomerola in mezzo, e mentre il tuo fuoco manda lì, mamma lavava il suo miente, e per l'anno presa in città. E vieni da un cuore filante, due per lì e due per lì. E anche scelta passando piano, sono stessi in mezzo. E fino a quando non c'erava, non c'erano i cimari, e c'erano i cimari, tagli i cuori, e venivano i tempi frescati. tagli i cuori e tirare, scelpevano i sessi mali, e facevano a chi non buttava in giù, con fuoco la testa più stretta. E non mi dite, con la stessa cilina, piccola, zia e me, la sigaretta. c'era il mio figlio, ma non è stato per lì, ma non c'erano i cimari. E quanti cazziati mi hanno fatto, perchè volevi fare, anche per il mio figlio, due due regni e due. Ma non lo rendi per stare in occhio, chi sa se tutti i cimari, 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 i cimari. Grazie.